intanto do il benvenuto a tutte e tutti io sono Sara Donati collaboro con AES l'agenzia energia e sviluppo sostenibile di Modena che supporta le attività dello sportello green per le imprese dell'appenino bolognese all'interno del progetto Bisbra Simone e qui con me c'è anche Daniele Cencioni di Città Metropolitana che coordina le attività dello sportello gli lascerò la parola e poi presenterò anche appunto Marcello Salvio di Enea che oggi ci aiuterà a esplorare entrare nel vivo di questo webinar che è dedicato proprio secondo innanzitutto che facciamo all'interno di questo primo ciclo di informazione per questa annualità che lo sportello green sta sta proponendo e questo webinar è dedicato al tool Atenea for Sme che ha sviluppato Enea e riguarda appunto l'autodiagnosi per quanto riguarda tutto gli elementi che concernono l'efficientamento energetico per le piccole e medie imprese quindi poi ti presenterò Marcello intanto volevo passare la parola a Daniele giusto per inquadrare appunto questa iniziativa di Città Metropolitana e del Comune di Bologna. Grazie Sara, buon pomeriggio a tutte e tutti per inquadrare appunto che cosa stiamo facendo, come è inserito questo webinar all'interno sportello green per imprese, vi proietto giusto un paio di di slide, ecco mi scuso con quelli che mi avevano già seguito nel primo webinar, ma cercherò di essere molto veloce per lasciare spazio poi al tool di Enea. E allora lo sportello green per imprese è inserito all'interno di Bologna Innovation Square che è questa piattaforma di servizi innovativi dell'area metropolitana di Bologna che parte con i suoi servizi proprio dal dal Brasimone, quindi c'è una sede proprio fisica che verrà inaugurata eh nel nelle prossime settimane al Brasimone, adesso stiamo cercando di organizzarci per entro marzo, entro aprile, erano questa inaugurazione ufficiale, però i servizi, alcuni servizi sono già partiti, fra cui quelli dello sportello green per le imprese che all'interno del dell'area innovazione per la transizione ecologica e poi ci sono altri sportelli che verranno attivati al al Brasimone che sono quello sulla trazione dei talenti e quello sulla nuova imprenditoria. Che cos'è lo sportello green per le imprese? E' riservato diciamo è indirizzato le start up, le micro e piccole e medie imprese per affrontare meglio la transizione green grazie a servizi di informazione, networking, quindi organizzazione di eventi, webinar come come questo e laboratori anche in presenza e orientamento. Adesso vi darò anche i contatti per collegarvi al al sito web per per chiamarci, per scriversi e farsi le le vostre domande. Dove ubicato? Come dicevo stiamo attivando la sede fisica al centro Enea del Brasimone che sta per essere riqualificato con fondi poi PNRR e appunto apriremo con uno sportello fisico e ci sarà a breve una sede temporanea presso il comune di Castiglione dei Pepoli. Però non finisce qui perché lo sportello green per le imprese come tutto Bologna e Innovation Square avrà sede anche a Bologna Liber Paradisus e Imola all'osservanza, quindi verrà coperto tutto il territorio dell'area metropolitana di Bologna. Questi sono i nostri contatti se volete segnare, il sito web dello sportello green che attualmente ha un'area all'interno del sito della città metropolitana di Bologna, i nostri telefoni, l'e-mail. Ecco, questo è il secondo appuntamento, il secondo webinar del ciclo sull'efficientamento energetico delle imprese, ci sarà un terzo webinar sui bandi finanziamenti dedicati all'efficientamento energetico e poi un laboratorio in presenza, chiameremo le imprese dell'Appennino, questo laboratorio che si svolgerà fra il mese di marzo e aprile. Adesso ci metteremo d'accordo con chi è interessato, anzi vi invito a farlo presente, a mandarci un'e-mail a chi è interessato al laboratorio e cercheremo di mettere in pratica quello che impareremo oggi sul tool di Enea. Vi ringrazio e ripasso la parola a Sara. Grazie Daniele, se avete domande appunto nel corso di questo tempo che passeremo insieme vi invito a farle sia attivando la telecamera e prendendo parola e quindi attivando l'audio sia in chat e vi ho messo io in primis un link in chat che riporta a una pagina in cui abbiamo caricato le slide e la registrazione del primo webinar che abbiamo fatto il 19 gennaio sul quadro normativo rispetto all'efficientamento energetico in cui ci ha accompagnato Dario Di Santo del Fire. Quindi se non aveste seguito e siete interessati a questo questo seminario potete ritrovare slide e registrazione nel link che vi ho mandato e anche grazie Daniele per aver anticipato poi ovviamente vi faremo sapere la data esatta il fatto che a seguito di questo webinar quindi staremo insieme fino alle 17 di oggi in cui Marcello ci illustrerà il tool, questo strumento digitale che è stato anche aggiornato a fine dello scorso anno potremmo anche sperimentarlo insieme appunto in presenza tra tra marzo e aprile quindi questa è un'informazione su cui vi daremo aggiornamenti. Detto questo allora presento Marcello Salvio che oggi ci accompagna, benvenuto che è ingegnere ricercatore presso il Dipartimento Efficienza Energetica dell'Enea con sede a Roma e gestisce e coordina in questo momento il Laboratorio Efficienza Energetica che ha a che fare con la diagnosi, le diagnosi obbligatorie appunto per le grandi imprese, i grandi energivori, però come vediamo oggi come laboratorio vi occupate anche di promuovere e sensibilizzare le piccole e medie imprese rispetto all'analisi dei consumi e alle opportunità esistenti in questa materia e oggi faremo proprio questo e vi invito tutte e tutti ovviamente durante la presentazione di Marcello a fare domande, a interagire per entrare nel tema e prima di darti la parola Marcello volevo come la scorsa volta lasciare veramente un breve giro di parola per chi volesse presentarsi oggi per iniziare a conoscerci, per capire chi siamo, chi siamo oggi, chi sta partecipando, da dove viene, di quale realtà fa parte, quale impresa rappresenta e come mai che vi trovate qui, vi interessa questo tema, se avete già esperienza su questo tema, giusto chi se la sente magari e non l'ha fatto scorsa volta di presentarsi, mi fa molto piacere, questo ci aiuta, credo che aiuti anche Marcello a che ci racconterà di questo strumento digitale a appunto entrare in sintonia. Vi lascio a voi la parola, anche a piacere. C'è Patrizia forse che alza la mano. Ciao, buongiorno, sì, io sono Patrizia, sono di Monte San Pietro, ho partecipato, mi sono iscritta a questi incontri sul consiglio dell'assessora che abbiamo qui, la Barbara Fabri, io ho una piccola attività, proprio micro attività, è un on food, quindi ho un laboratorio alimentare domestico e ovviamente consumo di correnti e di energie varie, al momento non ho pannelli solari e nulla e comunque mi interessava tutto il discorso dell'energia. Grazie mille Patrizia, benvenuta. Grazie. Mi chiamo Rodolfo Bioccati, abbiamo un azienda a Bazzano, in sud di Bologna, siamo Tre Somaci, è una piccola azienda di ingegneria, lavoriamo nel settore dei risparmi energetici per le cattive, lavoriamo un po' in tutta Italia e nel mondo e ci interessava questo tool per capire anche noi, anche se non è proprio esattamente il nostro settore, ma per capire come applicare i risparmi energetici, cioè avere più informazioni sui risparmi energetici e come gestire meglio i nostri interventi quando andiamo in queste grosse industrie. Grazie mille Rodolfo, ti abbiamo sentito con il volume un po' basso, però almeno io ho capito quanto hai condiviso. Buongiorno, sono Alessandro Zaico, sono il socio di Rodolfo e appunto lui ha già fatto la presentazione nella nostra azienda, più che altro volevamo capire appunto se questo tool possa essere uno spunto, uno strumento che ci possa aiutare nel nostro lavoro. Grazie. Grazie Alessandro. C'è giusto un'altra voce, poi vedo altre, vedo qualche nome conosciuto. Carlotta è stata con noi scorsa volta anche Matt e Stefano forse. Vi saluto tutti, io sono di CNA Bologna. Mi sentite? Buonasera a tutti, sono di CNA Bologna, sono la referente per le politiche energetiche della nostra associazione e seguo con interesse questi incontri perché insomma vanno in convergenza con quello che facciamo quotidianamente per i nostri associati, quindi benvengano tutte le iniziative che possono dare una mano all'impresa e fare questa questa transizione. Quindi buon lavoro a tutti, grazie. Mi ripresento anch'io, sono Giuseppe Caserta di Conf Cooperative Terre d'Emilia, quindi l'associazione che riunisce le cooperative che vanno dalla provincia di Reggio Emilia alla provincia di Bologna e che quindi attraversa, quindi coprono anche tutto l'appennino relativo. Io sono il funzionario, il responsabile del settore energie e ambiente e quindi abbiamo recentemente attivato un settore dedicato che prima non avevamo, con cui vogliamo dare un servizio alle cooperative associate. mi sono già presentato la settimana scorsa, un saluto a tutti. Grazie mille, Giuseppe. Anzi, ringrazio che siete qui anche in rappresentanza di una rete di realtà e quindi è importante se ci vorrete portare nella diffusione delle attività che facciamo come sportello. Ok, ci sarà modo, magari intervenendo in un secondo momento, per chi non si è presentato di farlo, c'è da domande interagendo, lascio a te la parola Marcello. Ok, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Grazie della presentazione. Io sono Marcello Salvio, ingegnere e ricercatore di Enea. Come diceva la collega, ordino un po' il meccanismo, tutto il gruppo di lavoro di Enea, mentre metto in condivisione la nostra presentazione. Ditemi se vedete, così abbiamo un La vediamo. Perfetto, grazie. Adesso non ti scrivo l'intero. Ok, grazie. Nella chiacchierata di oggi cercheremo di discutere e di affrontare i vari argomenti. Il tempo non è tanto, non andrò tanto sulla parte teorica, ma cercherò di essere soprattutto pratico, ma nel contempo cercherò anche di darvi indicazioni su altri possibili strumenti di efficientamento all'interno del meccanismo dell'efficienza energetica per le PMI. Il focus di oggi è PMI, micro, piccole e medie imprese. Ovviamente non è l'unico, noi ci occupiamo a più ampio spretto di tutta l'efficienza energetica delle imprese, ma oggi vi presenterò nella fatta specie questo tool che abbiamo denominato Atenea Forsme, che è forse il primo caso di tool in Italia di tool dinamico. Vedremo che ad oggi in letteratura esistono tutta una serie di tool, alcuni anche sviluppati da Aenea in passato, ma la peculiarità di questo tool è soprattutto quello di essere calibrato sul codice Ateco dell'impresa che lo adopera, ma ora poi vedremo che cosa questo vuol dire. Prima di iniziare un breve focus per dire che lavoro nel Dipartimento di Efficienza Energetica di Aenea, sono a Roma come sede di lavoro e due, il Dipartimento è per il decreto 115-2008 anche l'Agenzia Nazionale di Efficienza Energetica. Il gruppo di lavoro col piacere di coordinare, insomma, si occupa di svariate attività, le vedete un po' a video, ma per quanto riguarda il meccanismo delle diagnosi, soprattutto delle diagnosi energetiche ai fini dell'articolo 8 del decreto 102, si occupa interamente di tutta la gestione, il portale, le guida, la collaborazione con il Ministero per quanto riguarda la parte dei controlli e delle sanzioni, ma soprattutto, ed è quello che è più interessante di tutto, è un continuo confronto con associazioni di categoria, associazioni di imprese, associazioni di professionisti, insieme alle quali negli ultimi dieci anni, quindi al 2014, quando è iniziato l'obbligo di diagnosi per le grandi imprese e le imprese energetiche, fino a oggi, abbiamo redatto oltre 30 linee guida settoriali, partendo proprio dal presupposto che noi non siamo onniscienti, ma è importante confrontarsi con chi effettivamente opera sui vari settori produttivi per andare a tirare fuori delle linee guida settoriali specifiche, ma soprattutto utili, che non è cosa di poco conto. E faccio un po' un preambolo per capire di che cosa stiamo parlando. Noi parliamo di PMI. In Italia, ultimi dati della Commissione Europea del 2022, PMI sono circa 3.4 milioni di imprese, quindi come immaginate è un numero elevatissimo di imprese. A contempo però il decreto legislativo 102 del 2014 all'articolo 8 obbliga le grandi imprese, le imprese a forte consumo di energia, le obbligo a fare una diagnosi a partire dal dicembre 15 e ogni 4 anni e a inviarla a Enea, dove per grandi imprese ovviamente si intende tutte quelle imprese che non sono PMI e che contestualmente hanno questi valori di fatturato e di bilancio. Le slide rimarranno, quindi io andrò veloce, ma tanto mi verranno date, immagino, e contestualmente si intendono per le imprese energivore tutte quelle imprese che rispetto all'anno ennesimo di obbligo, quindi rispetto al 2023, per esempio che è stata l'ultima scadenza dicembre 23, erano risultati imprese energivore, cioè iscritti agli elenchi della Cassa Servizi Energetici e Ambientali nell'anno N-1, cioè nel 2022. Ora questo per dire cosa? Per dire che queste imprese tutte insieme rappresentano quasi il 50% dei consumi energetici italiani, quindi stiamo parlando di imprese che effettivamente hanno un grande potenziale di efficientamento, è necessario, se non obbligatorio, andare a fare un'analisi dei consumi, ma sono 8.000. 8.000 su 3 milioni e 4 stiamo parlando di tre ordini di grandezza. Allora questo cosa vuol dire? Che gli altri 3 milioni, 399.000, 399.000, insomma, sono imprese che non hanno l'obbligo di diagnosi, però questo vuol dire che c'è un grande potenziale in questa ottica e quindi sostanzialmente l'attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico prima e poi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica si è focalizzato su questo aspetto, cioè su questi 3 milioni e 4 di imprese c'è un potenziale di efficientamento energetico? Sì. C'è un problema? Sì. E vedremo che i problemi sono enormi, soprattutto nelle micro e nelle piccole imprese, e ora vi dirò anche perché, e ha dato onere e onore direi più a Enea di implementare a partire dal 2020 un piano di sensibilizzazione per le PMI e noi in collaborazione con le associazioni di categoria, prima ho sentito CNA, ma anche altre, abbiamo organizzato in varie sedi italiane, anche in varie città italiane, anche in Emilia Romagna, nella quante specie a Rimini, dei convegni ad hot, dove siamo venuti fisicamente, ma abbiamo avuto 12 tappe in Gino Venitale, dove abbiamo presentato tutta una serie di strumenti, tra cui questo tool. Questo tool che andiamo ora a vedere è un tool che va a fare una sorta di autoanalisi, autovalutazione dei consumi energetici della PMI. È un tool che è in Excel, vedremo, è facilmente adoperabile, può essere adoperato da chiunque, quindi professionisti, imprese, policymaker, e la cosa, oltre ad essere dinamico, forse l'aspetto più interessante è che nell'ultima sezione dà l'opportunità di stampare un report, è possibile quindi stampare un report contenente una sorta di diagnosi energetica del sito che è stato oggetto di analisi. Però prima di entrare nello specifico, il tool può essere usato da chiunque e da per tutto, ovviamente, ma da un punto di vista pratico, per quanto riguarda invece le diagnosi energetiche obbligatorie, le diagnosi possono essere date solo dal 2016, solo dagli EGE, certificando di secondo la norma 1.11.339 e dall'ESCO, certificando secondo la 1.11.352. Perché vi sto dicendo questo? Perché vedrete nelle ultime slide, mi sa tra un'oretta e mezza, che tutto ciò che vi sta dicendo in realtà è attualmente valido, ma era relativa alla vecchia direttiva europea. Dal 10 ottobre 2023 è entrata in vigore una nuova direttiva europea, non ancora recepita, quindi queste sono le regole, ma a breve cambieranno. E la direttiva europea, come vedremo alla fine, cosa fa? Obbliga e vinca la realizzazione di diagnosi energetiche non più alle grandi imprese o alle imprese energibili, quindi non più ad aspetti veramente anagrafici o aziendali, più di 250 indipendenti, un fatturato X o Y, bensì nega le nuove diagnosi energetiche a una soglia minima di consumo, come anche più normale e razionale che sia. E quindi cosa vuol dire? Come abbiamo ampiamente illustrato sia al Ministero, perché ci collaboriamo, sia alle imprese che hanno partecipato ai vari tour, beh questo vuol dire che è anche una parte delle piccole medie imprese sarà obbligata alla diagnosi energetica. Quindi è bene iniziare a entrare in questa argomentazione ed è bene iniziare ad avere il contatto, diciamo, di quello che è una diagnosi e quindi questo tool diciamo viene incontro a questa esigenza. Da un punto di vista pratico qui avete un po' una cronistoria, dal 2012 direttiva europea, 2014 il recepimento, vedete in rosso il piano di sensibilizzazione delle PMI introdotto all'articolo 8,10 terra del 102, come emendato dal decreto legislativo 73 e 20, e che appunto dice cara Enea devi fare qualcosa per le PMI. C'è da dire una cosa, molti di voi forse lo sapranno, dal 14 al 20 era stata data possibilità alle imprese di metter su dei bandi regionali per finanziare al 50% la realizzazione di diagnosi nelle piccole e medie imprese, anche nelle micro imprese, bandi totalmente fallimentari, avranno accenuto, avranno avuto accesso a questi band, a queste cose in tutta Italia, mille imprese in sei anni, più o meno, e la dotazione finanziaria era di 75 milioni di euro spesi, penso manco uno. Quindi da un punto di vista pratico il ministero si è reso conto che non era uno strumento che le imprese, diciamo, adoperavano e quindi si è cercato di sensibilizzare maggiormente di più e quindi sviluppare un piano di sensibilizzazione. Qui vedete un po' qualche numero che è relativo ai risultati del secondo ciclo d'obbligo, no? 19-22, ora dicembre 23 ancora dobbiamo complicare i dati, abbiamo ricevuto circa 11.000 diagnosi, ma quello che ve lo mostro per farvi vedere come anche nel ciclo di diagnosi obbligatorie, quindi dettato dall'articolo 8 del 102, guardate quante PMI, c'erano circa 3.500 piccole e medie imprese, quindi vuol dire che la tematica è una tematica che in qualche maniera impatta e neanche tanto di poco conto con le PMI e quindi da questo punto di vista si è cercato di strutturare un tool che ora andremo a vedere in tutte le sue sezioni, quindi entriamo molto nello specifico perché ovviamente era l'oggetto della chiacchierata, ma il tool ha essenzialmente uno scopo, fare individuare alle imprese i centri di costo energetici maggiormente rilevanti, ma soprattutto individuare gli interventi di efficientamento energetico calibrati, questo mi preme sottolineare, per il singolo codice merceologico al fine di trovare, diciamo, la modalità migliore per ridurre i costi energetici. In realtà noi abbiamo voluto far passare un messaggio, cioè che competitività dell'azienda e efficienza energetica altro non sono che due facce della stessa medaglia. Quindi il tool analizza i dati di bollette, analizza i dati energetici che il singolo operatore può caricare, perché ovviamente possiamo avere anche dei dati in più, oltre quelli di bollette, quindi se c'è un impianto di nominazione, di climatizzazione, la potenza, livelli di funzionamento, insomma tutti gli aspetti che ora vedremo. Fatto questo, una cosa interessante è che sulla strega di quelle di agnose energetiche che vi ho fatto vedere prima, che ne sono arrivate 16.000 dal 2015 al 2018, 13.000 dal 2019 al 2022. Che cosa abbiamo fatto come Enea? Ne abbiamo prese tutte, ne abbiamo esplose e abbiamo analizzato i costi efficaci di tutti gli interventi di efficienza energetica riportati nelle diagnosi. È stato un lavorone enorme, è durato quattro anni quasi, ma da quella analisi fatta e quindi dal calcolo dei costi efficaci dei singoli interventi, perché è in dubbio che un intervento come l'illuminazione ha un impatto grande in una panetteria o in un'azienda, in una filiale bancaria, ma è inutile in un'acciaieria o in un'attività che ovviamente consuma l'80% dell'energia per aspetti più di produzione. Quindi questo fa il tool, organizza una matrice multivariabile, associa ogni codice Ateco, un costo efficace, poi c'è anche un questionario in cui vi verrà chiesto, poi dopo lo vedremo quale intervento è fatto, e tira fuori una classifica di interventi. Fa tutto questo per dire, e fa anche un'analisi tecnico- economica ovviamente, dopo vedremo secondo quali principi economici. Tutto questo per dire sostanzialmente che si cerca di far capire che esiste un nesso molto forte tra l'efficienza e la competitività. L'efficienza la ottieni, come dicevamo, solo se fai una diagnosi energetica. Fai una diagnosi energetica, che tra l'altro poi altro non è che il primo passo per un sistema di energy management, vuol dire sostanzialmente andare a misurare internamente al sito produttivo o al sito terziario, quali sono i vettori energetici che consumo, o se ad esempio ho delle ferro, quindi ho degli impianti fotovoltaici, microonici, geotermici, tutte delle fonti rinnovabili, devo tener conto anche di ciò che autoproduco ed autoconsumo. Sulla diagnosi non mi dilungherò, ci sarebbe da dire l'impossibile è l'oggetto della nostra attività, vi sintetizzo questo, che poi è anche la sintesi di quello che fa il tool. Per fare una buona diagnosi energetica devo individuare dei profili di consumo e devo costruire le mie baseline di consumo, cioè devo andare a calcolare il mio indicatore di prestazione energetica, perché poi quello che è importante alla fine di tutto è capire se io rispetto alla media di mercato, energetica ovviamente, sono sopra, sotto o nella media e questo lo posso fare esclusivamente andando a sviluppare un rapporto di diagnosi. Ecco perché il tool nell'ultima sezione cosa fa? Dà l'opportunità all'impresa o al professionista autonomamente di tirar fuori giù un report e nel report, cosa importante, viene indicato l'indicatore di prestazione, cioè ti dice se tu stai bene rispetto alla media di mercato, male o ovviamente in media. Mi sono dimenticato di dire forse cosa più importante, il tool è gratuito ed è scaricabile gratuitamente sul portale NEA Audit 102. Poi nell'ultima slide troverete tutti i link, però insomma era giusto e doveroso dirlo, è scaricabile previa registrazione sul portale, ovviamente. Nella diagnosi in generale e quindi anche il tool, ovviamente di conseguenza, deve essere dato secondo le norme tecniche Unicei 16247, così come aggiornate nel 2022. E qui entriamo nel caso per esempio di un terziario. Cosa fa il tool? Nel caso di un terziario, ma potremmo fare un approccio simile per l'industriale, il tool ti analizza i consumi e te li spacchetta in due grandi aree, le aree dei servizi ausiliari e l'area dei servizi generali. Ovviamente nel caso industriale, oltre a queste due aree, c'è per esempio anche l'area delle attività principali, che è proprio la produzione. Questo è importante dirlo prima di andare a vedere le schermate del tool. Perché? Perché quando andremo a compilare il tool, vedrete che a seconda del codice ATECO, ovviamente, che uno seleziona in anagrafica, si apriranno varie, vari fogli Excel. E ci sarà il foglio dedicato ai servizi ausiliari, il foglio Excel dedicato ai servizi generali e il foglio Excel dedicato alle attività principali. E che cosa ci devo andare a inserire? Nei servizi ausiliari, faccio un esempio, dopo lo vedremo caso per caso, io vado a inserire tutte quelle attività che non sono proprio connesse alle attività principali, ma che sono ausiliari e sono fondamentali. Allora, l'illuminazione, la climatizzazione, l'impianto di aria compressa, oppure l'impianto, la caldaia, se stiamo parlando di una struttura industriale. E quindi io in quel contesto, in quella sezione, dovrò andare a mettere tutte le attività che sono legate alle attività principali. Quindi, di conseguenza, le attività principali metterò ciò che faccio. Se io faccio, che ne so, portiere di auto, faccio billette o faccio penne, scriverò nelle attività principali estrusione del materiale plastico per fare X, oppure stampaggio di questo, oppure formazione della bottiglia di vetro, oppure, insomma, ci sono varie attività. Mentre invece, nei servizi ausiliari, terremo conto, nel nostro tool, di tutti quelli che sono i consumi energetici legati a cose che sono essenzialmente marginali. L'illuminazione del parcheggio, l'eventuale presenza di una manza interna e quindi il consumo della, di quanto consuma la mensa, oppure se parliamo, che ne so, di un ufficio, qual è il consumo della, della, come si dice, dell'illuminazione del parcheggio davanti all'ufficio, cose ovviamente tendenzialmente marginali. E la diagnosi e il tool ripercorrono questi aspetti, cioè faremo un'analisi dei consumi passati, andremo ad analizzare i consumi presenti, il tool in qualche maniera immagina anche un andamento dei consumi, il tool identifica le aree di uso significativo dell'energia e poi identifica, ovviamente, come dicevamo prima, le aree di miglioramento e, ovviamente, le opportunità e i miglioramenti tecnologici che possono essere adottati. Il tool fa anche, diciamo, tesoro di tutti quelli che sono gli strumenti che noi abbiamo messo a disposizione delle imprese e io ve li voglio illustrare perché sono buoni anche per le PMI. Nel 2015, per esempio, insieme all'associazione di categoria, abbiamo strutturato tutta una serie di fogli Excel, molto semplici, molto user friendly, per aiutare le imprese a capire come individuare i punti più energivoli della propria impresa. E quindi, in collaborazione con le associazioni di categoria, abbiamo fatto un po' vari tavoli tecnici settoriali, anche in giro per l'Italia, e siamo andati a identificare quelle che erano le tipologie tipo impresa. Le abbiamo inserite in un po' di Excel e le abbiamo fornite a tutti. Nel 2017 siamo andati a sviluppare invece delle linee guida per monitorare i consumi nei siti. Nei potete scaricare, sono tutti gratuitamente scaricabili, però possono essere più utili per capire come posso monitorare i vettori energetici nel mio sito e come posso effettivamente ridurre l'impatto. Nel 2019, poi inizio del secondo ciclo di diagnosi, abbiamo pubblicato oltremente linee guida settoriale, dalla pasta al vetro, il cemento, gli inceneritori, le banche, gli immobiliari, gli uffici, la plastica, il cemento, la farmaceutica, la sanità privata, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ne trovate tutti sul sito dell'agenzia efficienzaenergetica.enea.it nella sezione per le imprese e abbiamo sviluppato il nuovo portale, portale audio 302, dove voi troverete, tra le tante cose, il tool Atenea Forsman, ma troverete anche tutta la serie di tool, tool di energy management, tool di maturità energetica, tutta la serie di tool che noi abbiamo prodotto e messo a disposizione gratuitamente per le imprese. Vi invito qualora vogliate andarvi a fare un giro, giusto per capire come ci sta. Poi nel 2019 e nel 2021 abbiamo prodotto altre linee guida, abbiamo aggiornato e veniamo ai giorni d'oggi. Nel 21-22 abbiamo finalmente, dico io, che era un mio pallino, licenziato la collana quaderni dell'efficienza energetica, con delle vere e proprie monografie su vetro, cemento, fonderie, ceramica, farmaceutica e a breve, a marzo pubblicheremo alberghi, aeroporti, immobiliare, banche, tessile, insomma andremo, no, no, tessile non lo faremo a fin anno, no, insomma, tutta una serie di vere e proprie monografie in cui noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso le diagnosi energetiche del settore e abbiamo, le abbiamo mappate tutte, ma soprattutto abbiamo fatto un'analisi insieme alle associazioni di categoria sempre, ogni linea guida è fatta con l'associazione di categoria, però stiamo andando a identificare, codice adeco per codice adeco, gli indici di prestazione energetica, con anche un criterio di affidabilità e di significatività del campione. Tutto questo quindi che tutto ciò che vi ho detto l'abbiamo buttato dentro l'Atenea for Sme, l'Atenea for Sme realizzato negli ultimi due anni, licenziato in aprile 23, poi aggiornato ad agosto 23 e ultimissima al 15 gennaio abbiamo licenziato una nuova release e realizzato con il team del professor D'Angola della scuola di ingegneria dell'università della Basilicata. È stato un lavoro molto molto impegnativo, molto sfidante, che come vedremo non è, non calibra la propria attenzione solo sulla parte energetica, ma affronta, sebbene in minima parte, anche la parte ambientale. Entriamo quindi nel tool e la diagnosi è, la domanda è perché? Prima domanda, no? Quando ci siamo messi a tavolino nel 2020 e perché? Perché fondamentalmente abbiamo notato che mancavano nelle PMI tutta una serie di aspetti e ora andiamo anche a vedere perché mancassero questi aspetti. Ma il tool doveva sicuramente aiutare, come vedete alla fine, a incrementare il grado di competitività dell'impresa. E tutto questo, ve l'ho già detto, è nato nell'ambito del piano di sensibilizzazione, ma questo è il dato che vi davo prima. Guardate quanto è importante il mondo delle PMI a livello italiano. Guardate che impatto ha in termini di improvviso e di in Italia di addetti, scusate, e di fatturato e anche di impatto, no? Lo dicevo prima, 3.600 sono le grandi imprese. Un valo certo, un bel po' di energia, quasi il 50%, ma l'altro 50% è totalmente inesplorata. In realtà tutti i discorsi che noi sentiamo sempre parlare, i costi energetici, che costa tanto l'energia, sì è vero, è vero, è dubbio questo. È vero che le imprese, grazie ad alcuni meccanismi come le agevolazioni energivore e gasivori, possono avere delle riduzioni, ma in realtà probabilmente si fa anche tanto parlare di conti rinnovabili, fotovoltaico, ma in realtà forse l'efficienza energetica sarebbe la parte su cui stressare di più, perché la potenzialità, e ve lo assicuro perché abbiamo fatto le analisi anche di un bel po' di diagnosi pervenute da PMI, che abbiamo nel mondo delle PMI è enorme. Io questo lo dico sempre anche alle società di servizi energetici, a chi vuole investire in efficienza energetica delle PMI, sono tendenzialmente non efficienti in Italia, ma non sono in Italia, sia ben chiaro, salvo ovviamente un numero di sette che ha seguito l'andamento, ma di quelle 3 milioni e 5, vi assicuro che più dell'80% è ampiamente inefficiente. Però le PMI scontano tre grandissime problematiche, e le vedete qui, in primis problematiche economico-finanziali, non hanno accesso al credito, hanno ovviamente un potere rispetto agli istituti finanziari molto più basso rispetto ai grandi gruppi. E certo, se faccio FC, Trenitalia o Italo, rispetto alla microimpresa dell'Appennino non ha lo stesso potere di contrattazione, questo è ovvio. E questo ha un impatto notevole su quello che è la possibilità di finanziamento, degli incentivi, scusatemi, degli interventi. C'è poi una mancanza di competenze. La mancanza di competenze, sia ben chiaro, non intesa come ovviamente ignoranza, non è quello il concetto. Il concetto è che la microimpresa o la mediaimpresa o la piccola impresa è focalizzata giustamente sul core business della propria azienda. Se ci sono 5 persone, non ci potrà mai essere uno che si dedica H24 all'aggiornamento normativo, che cambia di mese in mese, all'aggiornamento degli incentivi, che segua tutta la tematica afferente appunto all'efficienza, ai meccanismi, al conto termico, alle direzioni. A parte cambiano di continuo, ma ovviamente deve lavorare e quindi diciamo al massimo ci si affida a un consulente esterno. E poi c'è fondamentalmente una scarsa conoscenza di strumenti. Qui io ne ho sempre parlato con le associazioni di categoria, secondo me viene a mancare, spesso è venuto a mancare questo trade union, perché se il ministero ha messo nel 2014 al 2020 15 milioni all'anno di finanziamenti a fondo perduto al 50% e in Emilia Romagna no, si sono fatte, ma sono tre le regioni in cui si sono fatte in Italia. Siamo 20, le regioni, per un totale di neanche 800 imprese. Beh, c'è qualcosa che manca, perché comunque alla fine gli strumenti ci sono. Manca un trade union tra l'impresa che ha, insomma, bisogno di avere un'interfaccia, forse qua sentivo prima dello sportello, no? Una cosa molto interessante, molto utile, mi fa molto piacere ovviamente sentirlo. Mancano forse questi sportelli che in qualche maniera facciano da tre le unioni. Noi cerchiamo comunque, come Enea, un'agenzia nazionale, tramite le nostre campagne informative, di dare tutti gli strumenti utili. Vabbè, qui sul volo non è importante sapere perché abbiamo fatto il tool. Quello che mi preme però è dire questo. Il tool mette, vi darà fuori indicatori energetici, indicatori economici ed indicatori ambientali. Indicatori economici che vuol dire che il tool va a fare un'analisi costo e beneficio di tutti gli interventi di efficientamento energetico che propone e vi fa il calcolo del WAN, ci sono tutta una serie di grafici che produce e che vedremo nel corso della chiacchierata. Qui abbiamo un po' una cronistoria, ve l'ho già detto. Entriamo a questo punto nel tool vero e proprio, anche perché mi sembra chiaro, mi sembra un po' ampia la presentazione che vi ho fatto. Il tool ha tre obiettivi. Sensibilizzare alla rendicontazione energetica i singoli proprietari, soci o anche lavoratori delle imprese. Fornire uno strumento gratuito di analisi, fornire una base dei consumi energetici. Quello che vi consiglio, proprio spassionatamente, è scaricavetevi il tool, giocateci, divertitevi, ma in realtà, se ci pensate, è un vero e proprio strumento, lo vedrete com'è fatto, perché puoi anche selezionare l'anno, quindi puoi anche salvarti anno per anno tutti i dati, è un vero e proprio strumento di energy management aziendale. Quindi invito tra di voi, se ci sono persone che lavorano, e mi sembra di sì, nei contesti anche produttivi, di adoperarlo come un file Excel per rendicontare anno per anno i consumi. E che cosa andremo a chiedere? E ora lo vedremo. Lo storico delle bollette, l'inventario delle utenze e il monitoraggio. E questi sono i tre punti chiave che permettono una buona e rappresentativa rendicontazione della realtà aziendale. Non aspettatevi che il tool faccia miracoli. I miracoli non esistono, almeno in questo contesto. Cioè, se volete che il tool funzioni bene e vi tiri fuori una diagnosi, un'analisi energetica fatta bene, è necessario perderci un po' di tempo e caricare i dati. Questo è innegabile, senza un minimo di impegno, i risultati non si attengono, ma questo mai, in generale, ma soprattutto in questo caso. Inoltre, lo strumento di analisi vedremo, ci permetterà di valutare gli interventi, fare un'analisi dei più importanti indicatori energetici, il plan, il payback, il tier, quindi tutti i valori, tutti quegli parametri che poi il management aziendale adopera per scegliere, banalmente, se fare un investimento o meno, che poi alla fine di questo stiamo parlando, è l'efficienza energetica è investire. E poi il tool, appunto, lo strumento di analisi, c'è questo DOC, anche modificabile e ben fuori, se uno lo fa anni e anno può calcolarsi anche come varia il proprio indicatore energetico. E infine, porre una base sui consumi. Al momento, il tool non permette ancora questa cosa e noi stiamo lavorando moltissimo per trasformare queste Excel in una piattaforma web. Vabbè, il mio sogno sarebbe arrivare a fare un'app, vediamo se ci riusciamo, ma perché che cosa vorremmo fare noi? Al momento non lo facciamo, noi vorremmo uno strumento interattivo tra Enea e imprese, cioè vorremmo che le imprese compiassero online con i dati e noi con quei dati fare delle analisi e fornire alle imprese in tempo reale gli indicatori di benchmark, perché qua ce ne abbiamo caricati in back office, vedrete che abbiamo caricato tutta una serie di dati, come il costo efficace, alcuni valori di riferimento per gli indicatori di efficienza energetica, però una cosa è caricare un dato e poi se sto tu non lo usito da tre anni, probabilmente qualcosa è cambiato. Se fosse possibile farlo real-time, insomma, con il nostro obiettivo, noi speriamo di farlo per il 2025, è il mio obiettivo. E appunto queste sono le prospettive di cui vi parlavo. Entriamo, dove si scarica? Entriamo su Atenea Force Me, download, quindi entriamo nella parte operativa della giornata. Se qualcuno ti vuole a qualche domanda su questa prima parte iniziale, forse è meglio farla adesso, nel senso che può essere utile che ci avete qualche dubbio, sviscerarlo adesso, perché ora da adesso in poi io entro proprio su come adoperare il tool, sarà una gnocchierata di penso un'oretta sulle varie parti del tool. Quindi se qualcuno c'è una domanda su tutto quello che vi ho detto ora... Grazie Marcello che lo ricordi, esatto, teniamo... invece di raccogliere tutte le domande alla fine, siamo in corso d'opera un po' più interattivo e anche utile, ecco. Anche se questa ovviamente è una parte più descrittiva. Sì. Però se qualcuno c'è qualche domanda? Posso fare una domanda io? Una curiosità. Mi dica. Rispetto alle PMI che hanno caricato le diagnosi energetiche non come soggetti obbligati, ma che l'hanno fatto quindi volontariamente. Sì. Voi avete visto se c'è una certa costanza, quindi se l'hanno fatto proprio perché hanno adottato questo approccio capendo nel valore, oppure magari è stato fatto sulla fronte di una necessità estemporanea perché magari dovevano farlo per rispondere, non so, a un bando o qualcosa di questo genere. No, grazie per la domanda. Molto utile perché... allora vi do qualche numero così... le do qualche numero. 2015 prima scadenza obbligatoria percentuali di soggetti volontari 0,1 0,2. All'ultimo dicembre 23 siamo al 7%. Quindi capisce che molte di queste sono PMI. Tra le PMI abbiamo fatto un'analisi e abbiamo visto sì che una parte erano dovute per esempio a partecipazione a bandi regionali, bandi comunitari, ma questo è anche legittimo, è giusto che ci sia. Però stiamo iniziando a vedere soprattutto post-covid, che c'è anche una certa liquida di PMI che caricano proprio la diagnosi, perché hanno capito l'importanza dello strumento. Spessissimo veniamo contattati anche ai nostri canali informativi, oppure personalmente, a seconda dei casi, e devo dire che io soprattutto negli ultimi due anni, soprattutto l'anno scorso, devo essere sincero, ho avuto svariati contatti con imprese che mi hanno detto, no, noi vogliamo farlo, perché abbiamo capito che sta andando in una certa direzione, i costi dell'energia sono questi, vorremmo rimanere competitivi, e quindi abbiamo deciso di fare la diagnosi. E quindi a quel punto poi ci chiedono informazioni, ovviamente perché capirete bene che l'altro meccanismo è regolato anche a livello proprio, ci sono certificazioni, ci sono professionisti che ci lavorano, ci sono sanzioni, quindi è una cosa molto molto seria. Questa ovviamente è una cosa del tutto volontaria, però voglio dire, è altrettanto importante, se no forse di più, perché qua c'è anche un aspetto di sensibilizzazione, che lì volente o volente già c'è, perché c'è un obbligo, quindi c'è poco da dire. Grazie. Vabbè, allora entriamo nel focus. Questo è il nostro sito, www.audit102.it, tu ti loghi, quindi ti registri, entri come impresa e hai questa interfaccia. Questa interfaccia voi avrete qui, se siete, se avete già caricato nella documentazione troverete tutti i vostri record, questo è un caso di un'azienda vergine e a sinistra, come vedete, avete tutti i vari tool a disposizione. Avete il tool di energy management, che viene in realtà operato moltissimo dalle grandi imprese per seguire il monitoraggio anno per anno, perché se uno lo carica e carica i dati, poi li può anche caricare sul portale e quindi rongarsi al portale né avere in real time tutti i dati in tempo reale. È possibile poi gestire i siti, se avete più di un sito. C'è poi il questionario di autovalutazione che abbiamo sviluppato con l'Università di Roma, Tor Vergata, anche questo molto carino. Vi invito, sono 40 domande fatte di solito o ai proprietari delle aziende o agli energy manager delle aziende, per capire qual è la propensione all'efficienza energetica dell'impresa. Ma detto questo, quello che è interessante è questo, si clicca su Atene Aforzme, si ha questa pagina e a questo punto si scarica il foglio Excel. Poi Excel, vabbè, qui c'è passo passo di scarica, è abbastanza grande, attualmente nell'ultima rilisa abbiamo raggiunto 15 mega di grandezza, consta di oltre 500 fogli. Excel ovviamente non li vedete, voi ne vedete una alla volta, però in back office ci sono 500 fogli ed è compatibile con tutti i sistemi Windows e Linux post 2010. E la struttura del tool è questa che vedete a video, cioè il compilatore, ora lo vedremo passo passo tutte, tutte quante le sezioni ovviamente, deve compilare queste sette, diciamo queste sette, queste sette comparti con i dati delle proprie aziende. E quindi che deve fare? Deve compilare innanzitutto l'anagrafica, che sembra banale ma non è, ma è la parte più importante perché vedremo che quando si compila l'anagrafica si conferma il codice ad eco e quindi il tool in automatico si struttura su quel codice ad eco. È un tool dinamico, non è uguale per tutti. Quindi appena tu gli dici che sei una ceramica o la palastica o un ristorante, lui si tara su quello che è il foglio relativo a quel codice ad eco. È ovvio che i codici ad eco, sapete, in Italia sono milioni. Noi abbiamo coperto circa 200 codici ad eco, prendendo spunto da quelle linee guida che vi dicevo prima. Ovviamente non abbiamo tutti i codici ad eco. Allora quando non c'è il tool si mette in modalità industria se il codice ad eco è afferente al comparto industriale o in modalità terziario se è ovviamente legato al comparto del terziario. Dopo l'anagrafica si inseriscono gli acquisti dell'energia, cioè le bollette, per ogni singolo vettore energetico. E poi la parte più importante di tutte, si va a compilare un inventario. Cos'è un inventario? Un inventario è sostanzialmente fare una sorta di censimento di quelli che sono i miei macchinari, i miei centri di costo che ho nella mia azienda, che sia terziario o industriale, non importa. Perché i dati che vengono inseriti negli inventari vengono poi confrontati con i dati delle bollette. Quindi la prima cosa che fa il tool è, ma ci troviamo? Cioè se io ho dieci macchinari che dovrebbero consumare x di lavattora e in realtà quella bolletta è di molto più alta. C'è una sovraffatturazione, è capitato, riprendendo la domanda che faceva prima la collega, che qualche azienda abbia detto, ma tu lo sai ma voi lo sapete che abbiamo scoperto una sovraffatturazione perché il tool ci dava questo warning e ovviamente il warning al di sotto del 5% non c'è perché lo scostamente ci può essere. Ma c'erano aziende che consumavano, insomma che pagavano bollette per un consumo molto più elevato. Poi sono andati a fare un'analisi, ovviamente questo è stato lo spunto, poi hanno chiamato dei professionisti, cioè hanno fatto un'analisi seria, però insomma fa un bilanciamento tra inventare a questa energia e poi trova gli indicatori di performance energetica, confrontandoli con quelli di riferimento per quel codice a Diego. A questo punto tra la parte 4 e 5 c'è un questionario, voi compinerete un questionario che ora vedremo in base a quello che avete compilato, in base al fatto se negli ultimi 5 anni sono stati fatti interventi di efficienza e se si quali vi viene chiesto, il tool vi tira fuori una lista di interventi, con il payback e poi vedremo dopo che per ogni intervento uno clicca e si apre l'intervento. Da poi la opportunità di fare lo stampaggio della diagnosi, ma ultimo punto, ma non per ultimo, sarà molto importante, lo vedrete nell'ultima slide, abbiamo introdotto, deciso di introdurre forse in maniera anche un po' antesiliana, i consumi, un'analisi dei consumi idrici legati ai consumi, scusate, dei consumi energetici legati ai consumi idrici. Abbiamo visto che in alcuni settori, il tessine, l'alimentare, il legno, a parte la siderurgia e tutto quello in là, c'era un consumo energetico e un consumo idrico elevatissimo. L'acqua oggi giorno ci è regalato nella sostanza, ma se dovesse succedere all'acqua quello che è successo con il gas nel 2022, penso che questo comparto avrebbe, questi vari comparto avrebbero gravi problemi. Ecco che quindi abbiamo deciso, in collaborazione con il Dipartimento Ambiente dell'Università della Basilicata, di analizzare anche queste parti. Entriamo quindi nelle varie sezioni e andiamole a descrivere. Iniziamo con l'anagrafica. L'anagrafica, vedete, è questa, molto semplice. Si caricano quelli che sono i dati minimi dell'azienda, quindi la regione sociale, il comune di appartenenza, le dimensioni aziendali, qual è l'anno di riferimento rispetto ai quali noi vogliamo andare a fare questa diagnosi. Non l'ho detto prima, ma in realtà ogni singola diagnosi viene sempre effettuata da norma rispetto all'anno N-1 di riferimento. Quindi se io oggi voglio adoperare il tool, detto semplicemente, io andrò a fare i miei calcoli sicuramente sull'anno N-1. Poi se fossimo particolarmente, diciamo, virtuosi ed efficienti, il tool dà l'opportunità di fare l'analisi sugli ultimi tre anni, quindi N-1, N-2, N-3. E poi vado a calibrare quelle che sono le mie caratteristiche, perché come vedrete questo ha un impatto anche su quelli che sono gli interventi che uno propone ovviamente all'azienda. Se sono una mica impresa non ti preoccuprò di rifare i fornifusori, cioè c'è deve essere ovviamente un costo efficace legato alla tipologia di impresa. Fatto questo io confermo il codice Ateco e questo fa sì che il tool subito si cara su quello che è, diciamo, il percorso che noi abbiamo deciso di fare effettuare alla singola impresa. E quindi che succede? si entra nella prima parte, ovvero gli acquisti. E in questo caso gli acquisti che cosa vado a fare? Per ogni singolo vettore energetico, scusate, quindi energia elettrica, energia termica o i trasporti, andando a selezionare, qui c'è un meno a tendino, dopo lo vedremo, che cosa vado a fare io? Vado a selezionare però l'energia elettrica anno N, o anno N-1, N-2 o N-3, questo è il meno a tendino. E lo vado a fare per ogni singolo vettore energetico. Lo vado a fare e che cosa ho? Ho un aspetto del genere. Devo andare a compilare a questa regola generale. Devo compilare solo le caselle in bianco. Tutte le altre sono automatiche, ovviamente. Intanto, Marcello, ti faccio una domanda che è stata riportata in chat. Andrea chiede se con un account si possono fare diagnosi per non solo un'impresa ma più di una. Sì, sì, assolutamente. È possibile. Non c'è nessun problema. Allora, stavo dicendo, acquisti energetici, quindi partiamo l'energia elettrica, andiamo a inserire per ogni anno che ho a disposizione i dati di bolletta. Questo è facilissimo. Ce li ho tutti. Se prendete una bolletta, ci avete sia i consumi totali, sia la distribuzione sulle tre fasce e quanto ho pagato, ovviamente. E a questo punto, in automatico, il tool mi crea una distribuzione del genere. Come vedete, questo, per esempio, è un esempio fatto su tre anni e mi calcola anche per ogni singolo anno, poi mi fa anche un calcolo dell'accumulata, qual è la mia distribuzione dei consumi nelle varie fasce orarie disponibili. Sono anche dati utili perché sostanzialmente ci permettono di avere sotto controllo quella che è il consumo, l'area di consumo, la tempistica di consumo più impattante. Quindi riesco a capire anche bene se il consumo volto su F1, F2, F3, poi in linea teorica, ma questo non c'entra niente col tool, uno potrebbe anche iniziare a immaginare di spalmare la produzione o le attività, laddove possibile, ovviamente, su tempistiche diverse. Ma questo è un altro paio di mani. Però, per farvi un esempio, qualche giorno fa ero, insomma, ero in un convegno, insomma, in un seminario e parlando con una primaria azienda italiana di produzione, di, diciamo, condizionatori, insomma, varie, varie attività, varie tecnologie che mi avevano detto, che avevano fatto tutta la serie di analisi e da questa analisi proprio qui, che non avevano usato questo tool, lei sia ben chiaro, ma, insomma, uno analogo, dal tool che avevano adoperato erano riusciti a modificare e a capire e a traslare in altre, in alcune fasce delle attività che non erano inderogabili in quella fascia. Quindi, magari, venivano splittate in altre fasce ed erano riusciti a risparmiare addirittura il 15% su base annua con un risparmio di 40.000 euro su base mensile, che non è proprio pochissimo, quindi era un'azienda grandicella. E, insomma, questo per dirvi che il tool è importante anche per la distribuzione delle fasce rare, ma il tool sostanzialmente mi va a fare questa panoramica. Discorso analogo per quello che riguarda l'energia termica. L'energia termica, che vuol dire? Tutto e niente. L'energia termica è tutto ciò che produce, sappiamo benissimo, calore. Ora entriamo nella fisica e tecnica, ma tra i vettori energetici abbiamo inserito praticamente tutti i vettori energetici possibili e immaginabili, quindi il metano, il GPL, il gasolio, il carosene, il BTZ, olio combustibile, benzina, insomma, li troverete tutti, almeno a tendina, dove tu vai e sostanzialmente vai a scegliere il singolo vettore. Per ogni singolo vettore si apre una interfaccia del genere. Come vedete, anche in questo caso, il tool mi va a creare dei grafici e mi indica un po' quali sono gli andamenti dei consumi. Vedete qua, in questo caso, per esempio, vedete qui sotto, noi abbiamo scelto di fare l'analisi su due anni, AN e N-1. E questo cosa vuol dire? Questa, diciamo, cosa deve essere reiterata per ogni anno che io, in cui io decido di andare a fare l'analisi dei vettori energetici acquistati. E Carlotta, se appunto il valore da inserire è al netto dell'IVA? Sì, sì, altra domanda di me. Sempre al netto dell'IVA, sì. Perché a noi non interessa tutta la parte, diciamo, di fatturazione o di tutta la parte, diciamo, di tasse. A noi interessa la realtà, quindi c'è il consumo energetico e il consumo economico legato a quel consumo, ma senza l'IVA. E senza l'IVA. Sì, mi ero dimenticato di dirlo. Grazie nella domanda. Grazie a te. Vado avanti. E abbiamo, per esempio, il caso del gasolio. Il gasolio è sempre un po' più complesso, ma in realtà questo anche per quanto riguarda le diagnosi energetiche obbligatorie, perché in realtà il gasolio, in realtà i vettori per trasporto, ecco, è sempre un po' più complesso avere contezza di tutti quelli che sono effettivamente i consumi. C'è chi ha una... sì, certo, ci sono le carte carburanti, assolutamente. però non è la stessa cosa di avere il... 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 la... diciamo la... le bollette. Pensate anche a, per esempio, tante aziende di TPL, che sono medie o piccole imprese, ne abbiamo sviluppato anche una linea guida sui trasporti, sempre mi hanno detto, ci hanno detto, che c'era sempre una difficoltà a rendicontare i consumi energetici relativi ai trasporti. Da un punto di vista pratico, comunque, noi abbiamo redatto questa... questa interfaccia, ci inserisci i litri che te li trasforma in automatico in... in chilogrammi, poi ci metti il costo energetico e poi ti dice il costo per litro e per chilo. L'approccio è lo stesso e va reiterato per ogni anno ennesimo che io decido di sostanzialmente sottocorre ad analisi. E fatto tutto questo, c'è un tastino, lo ripetiamo qui, che è riepilogo. Io riepilogo per ogni anno e ho questo. Per ogni anno ho sostanzialmente un riepilogo dei miei consumi energetici, ho una distribuzione di quanti consumi ho consumato, scusatemi, perdonami, di quanti vettori ho acquistato e qui sottolineo acquistato perché qui vanno inseriti, ribadisco, solo i consumi prelevati da pod o pdr o da esterno. Quindi, per esempio, l'energia elettrica autoprodotta non va inserita in questa parte. La vedremo, la inseriremo in un'altra maschera. Poi il tool farà un merge, ma in questo contesto va inserito solo ciò che io acquisto dall'esterno. E quindi qua, per esempio, abbiamo un caso in cui abbiamo sostanzialmente una prevalenza di consumi termici, qualche un po' di energie elettriche e sostanzialmente i trasporti sono trascurabili. A questo punto passiamo alla parte dell'inventario. Prima di entrare e far vedere le maschere, vi ripeto quello che vi dicevo prima, cioè noi come Enea abbiamo proposto sin da lontano 2014 una struttura energetica. Questo è il caso dell'industriale. Prima vi ho fatto vedere il caso del tezzeno, ma non è importante la tipologia. È importante quello che vedete a video, cioè noi che cosa facciamo? Proponiamo che ogni singolo vettore energetico, il BJ, venga seguito a vari livelli. C'è un livello A, che è un livello di sito, no? Quindi qua ho ciò che io ho prelevato da rete. Poi c'è un livello B, che è quello di stabilimento. Nello stabilimento cosa entra? Entra, ma può entrare anche tutto ciò che io autoproduco ed autoconsumo e quindi, diciamo, le mie ferre. La somma dell'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata e dell'energia elettrica prelevata diventa VJ ed entra nello stabilimento e io lo devo seguire per ogni area funzionale. E questo è quello che fa il tool. Questa cosa, altra, non è che è un inventario energetico. Ovviamente io mi fermo dove posso. Ovviamente nel caso del diagnosi obbligatorio ci sono dei livelli minimi, ma non stiamo parlando di questo. Il tool è fatto affinché tu, se vuoi, tu possa arrivare alla singola linea di reparto. Sappiamo benissimo che nel caso del PMI tutto ciò non sarà, non è molto probabile, ma a noi basta sostanzialmente che ci si fermi. Quanto meno a un livello C, cioè bisogna avere un monitoraggio dei consumi e bisogna avere contezza affinché il tool funzioni, almeno nel livello C. Quindi io devo sapere quali sono le mie attività principali nella mia attività di lavorazione. Se c'ho una lavameria industriale, se c'ho, che ne so, una carpenteria, devo sapere le due o tre attività principali e le devo inserire. E devo sapere più o meno quanto il singolo vettore energetico cubi per ogni area. E come lo faccio questo? Andando sostanzialmente a compilare quelli che sono i vettori, gli inventari, scusatemi, energetici. E qui ho una nuova, una volta che, fermiamoci, il tool funziona, che ogni volta che io finisco una sezione, la confermo, in automatico quella sezione mi scompare e mi compare la nuova. Quindi, ha provato due, io faccio conferma, c'è il tastino alla fine del defino sconfermi, confermo, il tool passa direttamente a tre, tutto ciò che c'era viene scompare, anche se c'è sempre la possibilità di tornare indietro, ovviamente. E in questo tool, a questo punto, nella sezione tre, vado a fare quello che vi dicevo, vado a compilare i quattro inventari, c'è un inventario termico, l'inventario elettrico, l'inventario legato agli esporti e l'inventario legato agli impianti di autoproduzione. E, vabbè, se siamo in presenza di congenerazione o trigenerazione, ma difficilmente nel caso di piccole e medie imprese e anche micro, siamo in questo caso. Comunque, c'è anche la possibilità, se si vuole, di inserire tutto ciò che concerne la congenerazione e la trigenerazione. Quindi, i dati sostanzialmente di quanto gas metano inserisco all'interno del mio congeneratore e di quanti sono i vari vettori energetici che fuoriescono. Per quanto riguarda l'inventario termico, vado a inserire tutti i dati delle utenze che consumano combustibili, quindi, per esempio, il gas naturale per le caldaie, insomma, tutto ciò che concerne, che ne so, se c'è un bruciatore, mi funziona il gas naturale, il forno fusolio, cioè vado ad inserire le varie tipologie di tecnologie e i vettori che lo alimentano. Sostanzialmente approccio analogolo con gli inventari termici, scusate, con gli inventari elettrici e con l'inventario dei trasporti. E quindi, cosa vado a fare? Entriamo, per esempio, questa che è la centrale termica. Allora, immaginiamo che io abbia sostanzialmente inserito, abbia cliccato questo tastino qua, cioè vado all'inventario termico e ho questo panel. Nel caso di inventario termico non troverete mai attività principali, questo è, nel senso, difficilmente troverete attività principali che usano direttamente il gas o forse nel caso dei trasporti, ma qua siamo nel caso dell'energia termica. Allora, cosa avrete? Attività principali, servizi ausiliarie e servizi generali. Vi si apriranno le varie, le varie, i vari menu a tendina e voi cliccate su servizi ausiliarie e andate a inserire questi dati, cioè andate a inserire, per esempio, se avete una caldaia, andate a mettere che tipologia di caldaia è, qual è il rendimento, quante numeri di giorni lo tengo acceso e sostanzialmente il numero di ore. In automatico il tool genera una, diciamo, un'interfaccia del genere, cioè mi calcola il consumo annuo e mi dice sostanzialmente qual è il consumo annuo da monitorare e mi trasforma tutto in mega joule. Questo lo fa per ogni singolo vettore energetico, quindi se io vado qui, clicco su inventario termico e vado in servizio seriale, posso mettere questo, ma posso anche aggiungere altri. Se ho per esempio un bruciatore che è a servizio, no, un forno fusorio che è a servizio di un'attività principale, io vado ad inserire forno fusorio e a compilare tutto questo aspetto. Questo va fatto per ogni vettore energetico, equivalentemente se c'è un'attività di ristorazione o un bar o un barbiere, per esempio un negozio di barbiere, vado ovviamente a mettere, qua stavo parlando di una cosa industriale, andrò a mettere, che ne so, la caldaia che adopero per riscaldare il negozio del barbiere, oppure se ho un'attività di ristorazione vado ad inserire i forni che adopero, se sono forni ovviamente termici, altrimenti forni elettrici, oppure le lavastoviglie, cioè vado ad inserire tutte quelle tecnologie che io adopero nella mia attività principale. È molto importante, diciamo, compilare bene tutto, perché la compilazione che voi vedete è protomica al fatto che poi alla fine il tool mi va a fare il confronto tra i miei acquisti, tra i vettori energetici che ho acquistato e i vettori energetici che io avevo effettivamente consumato, ovviamente al net dell'autoproduzione, questo è scontato, altrimenti sarebbe da pazzi, e ti può dire, ti può dare quel warning se c'è una discrepanza maggiore del 5%. Quando invece fossi in presenza di una trasformazione interna dell'energia, il mio inventario è un inventario molto completo e anche abbastanza impegnativo, devo dire la verità, ma insomma viene chiesto al compilatore sostanzialmente di mettere il rendimento, di caricare la potenza termica di questo, diciamo, di questo congeneratore, di inserire i vettori energetici di ingresso e, laddove possibile, anche tutti questi altri altri, quindi l'energia elettrica venduta e, nel caso della trigenerazione, anche una cosa analoga per quanto riguarda il rendimento del motore a combustione interna. A questo punto noi avremo, immagino, se c'è una congenerazione, il mio panel che tiene conto di quanto ho consumato, di quanto ho prodotto, di quanto ho messo in rete, vado a mettere questi, sia in termini di energetica sia in termini di calore, vado a inserire i dati e sostanzialmente confermo. Vedete, qui avete un esempio di inventario termine con la suddivisione di attività principali, servizi ausiliari e servizi generali. Nel momento in cui io clicco su compila servizi ausiliari, io mi ritrovo in questa pagina e quindi vado a compilare tutte le sezioni a mia che mi interessano. Le compilo e, come dicevo prima, le confermo. La stessa cosa la vado a fare per l'energia elettrica e l'energia termica, non so se si vede bene, se no, perché qua io non vedo molto bene, quindi immagino anche voi non vedete bene, ma quello che è importante è che alla fine, una volta fatto per ogni inventario energetico l'inventario e dopo aver controllato quella che è la tabella di riepilogo, perché analogamente a quanto fatto per le questioni di energia, poi per ogni attività principale, se io clicco, mi fa una tabella, una torta che mi riepiloga un po' i consumi. Fatto questo, se per me vanno bene, io valido la mia analisi di inventario e chiedo al turno di fare il bilanciamento. E quindi, soltanto vado a cliccare qua al tastino, fa il bilanciamento e fare la rotellina, se tutto va bene, mi affare ok, oppure mi affare warning, quindi la compagno a un video un pop-up e mi dice, guarda, c'è una inscrivanza di più del 5%, controllo, e quindi tu vai un po' a rivedere che cosa è successo. Gli inventari termici che possono coprire, ovviamente qua, vedete, coprono tutti i codici Ateco, quindi tutte le mercenologie, quindi vedrete, c'è di tutto, ma gli inventari termici sostanzialmente coprono questi parametri che vedete a video, dove sicuramente le più importanti sono con il rendimento, il numero di unità, la potenza, il fattore di consumo, ma soprattutto quanto l'ho ad opera, quindi un fattore di utilizzo. Discorso analogo per l'inventario elettrico, cioè io clicco, e qui posso mostrare o nascondere l'inventario, quindi clicco su Mostro inventario, ho una pagina, vabbè, molto simile a quella di prima, non c'era slide, compilo tutte le mie voci, per esempio inserisco, che ne so, se sto a una filiera di una banca, metto tra i servizi ausiliari, inserisco la climatizzazione, l'illuminazione, i consumi FEM, della forza elettromatrice, se ho un Bancomat inserisco i consumi energetici del Bancomat e quindi carico, metto un Bancomat nel numero di unità di funzionamento e poi vado sostanzialmente a fare la stessa cosa di prima, cioè vado a bilanciare i consumi e a vedere se effettivamente il tutto mi ritorna o meno. Anche in questo caso abbiamo tutta una serie di parametri di rendimenti che vengono sostanzialmente inseriti all'interno dell'interfaccia Excel, i più importanti sono questi, li vedete a video, quello che è sempre importante, ricordatevi che è il rendimento, la potenza e il fattore di consumo, oltre i numeri di giorno, perché è su quello che poi il tool in automatico calcola i consumi teonici che poi vengono confrontati con quelli che sono i consumi da bolletta. Il discorso prettamente uguale è per l'inventario dei trasporti, dove sostanzialmente io vado a inserire i vari consumi che sostengo e vado a validare equivalentemente. Finito l'inventario dei trasporti, vedete qua avete per esempio anche una distribuzione, per esempio ti dice che il tool o ti fa una torta o ti dice che per esempio per quanto riguarda dei trasporti, il 37% dei consumi sono di benzina, equivalentemente abbiamo il diesel, il consumo del 26% di GPL e poi nel caso del trasporto il consumo di metano, quindi vetture a metano o vetture a elettriche sono praticamente nulla in questo caso, poi ti dice i vari consumi. A questo punto fatto questo io vado a cliccare su valida l'inventario dei trasporti e vai alla pagina degli IP. Quindi sostanzialmente se il bilanciamento è ok, se ho finito di caricare tutti i dati che volevo caricare, io posso validare questa cosa e passare alla pagina degli indicatori di prestazione energetica. Questo è un esempio di quello che vi dicevano, c'è una distribuzione, ci dice quanti sono i consumi megajoule o un diagramma torte, questo per esempio è l'inventario dei trasporti, nel caso dell'impresa ceramica, poi per esempio qui vedi si è aperto il tool sul lato ceramica e quindi tutti i miei, diciamo, fogli sono tarati su il foglio ceramica che abbiamo condiviso con Confindustria Ceramica, tra l'altro state sede a Sassuolo, neanche tanto lontano da dove siete voi. E a questo punto, come vi dicevo, premo il tastino e vai alla pagina degli IP. Cosa succede? Che la pagina dei IP scompare e si entra nella pagina degli indicatori di prestazione. E qui ci soffermeremo un po' perché come vedete è una pagina degli indicatori di prestazione è veramente enorme. È una pagina, è il cuore di questo tool. Ogni sezione può essere ovviamente esplosa, può essere inubile. Io qua ho fatto un po' un riepilogo, ma ci soffermeremo un po' su tutti. Perché? Perché la prima cosa che fa il tool è riepilogare, quindi tutto ciò che noi abbiamo acquistato. Riepilò anche tutto ciò che noi abbiamo consumato nel sito, mettendo in evidenza anche quelli che sono i consumi autoprodotti ed autoconsumati. Ma diciamo, quello che noi dobbiamo capire è se il nostro sito è efficiente. E allora che cosa facciamo? Nella pagina anagrafica, e qui vengono richiamati i dati, noi abbiamo inserito anche qual è il mio dato di produzione, se ad esempio stiamo parlando di un'impresa del manufatturiero, o qual è la mia destinazione d'uso, ovvero il driver rispetto al quale io voglio calcolare il mio indicatore. Nel caso del terziano è un po' diverso, e di solito si adoperano o i metri quadri, degli uffici, dei negozi, o i metri cubi. Uno di questi due parametri. E ovviamente, quindi, in termini di dato di produzione aziendale, non parleremo di mutui effettuati, o piatti serviti a tavola, o capelli tagliati, ma terremo conto della superficie, per esempio, utile riscaldata, o della volumetria utile riscaldata, e noi andremo a calcolare quei parametri, il mio indicatore di performance, come su quel parametro. Questo perché? Perché in letteratura noi troviamo quei parametri, e gli indici di prestazione, come vedete, vengono confrontati con i dati in di letteratura Enea, e questo è fondamentale. Lo vedete qui, c'è un dato in di letteratura che viene espresso, e con un diagramma a barre, con Instagram, io ti dico dove sei, te sopra, sotto, e questo, se noi vogliamo, però ogni singolo codice a te ha sei cifre. Non so se si riesce a vedere, ma noi abbiamo caricato, da dove è possibile, ovviamente, tutti i codici a te con sei cifre disponibili. Quindi, se io sono un'azienda X, e o faccio tessile, o la lavorazione, o che ne so, sono un'azienda plastica 22 0909, insomma, qualsiasi settore mercato, noi, da dove è possibile, abbiamo caricato a portale il nostro IPE. Cosa importante, non da poco conto, secondo me, è anche questo panel, perché questo panel ci calcola automaticamente la CO2, che è correlata a quelli che sono i nostri consumi. E questo, in un'ottica di sostenibilità, in un'ottica sempre più interconnessa dall'efficientamento energetico e, ovviamente, sostenibilità, è molto importante. Vedrete che i dati di CO2 sono molto importanti, perché quando andremo a vedere la sezione interventi, gli interventi, sì, ti fanno tutta una serie di analisi, ti dicono quanto risparmierai, in che tempo, se il costo del denaro X entra in Y, tutta una serie di parametri che vedremo a tempo debito, ma ti dice anche di quanto si riduce il tuo impatto di CO2. Quindi questo, soprattutto, immaginiamo a livello regionale e locale, è molto importante e questo strumento è uno strumento utile per capire ex ante, ex post, non solo quale possa essere la riduzione dei consumi energetici, ma anche quale possa essere la riduzione delle emissioni di CO2. Diciamo che questo è un power panel che ci si trova davanti quando ho a che fare con il calcolo degli indici di prestazione energetica e, sostanzialmente, quindi, se abbiamo correttamente compilato le pagine prima, io posso, sostanzialmente, vedete, troverete a video già tutto compilato. Quindi, vedete, pagine parte in bianco, non ce ne sono, e si autocompila e avrete tutti i dati già a video con le varie torte. Inutile dire, tutto ciò che vi sto facendo vedere, poi, viene preso e inserito nel report di diagnosi energetica o di autovalutazione, più che altro, chiamiamola più autovalutazione, che il tool redige in doc. Quindi, ovviamente, poi, sono editabili, ognuno se ne può modificare come vuole, magari alcune tabelle per una inutile, possono risultare inutili, possono essere cancellate, ma noi, come ne vediamo tutte. Poi, ognuno fa quello che vuole, sostanzialmente, del report che viene fuori. Gli indicatori, come vedete, si tengono conto delle emissioni di C2. Questo è quello che vi dicevo prima, insomma, ve l'ho già detto, ma è importante, altresì, nella sezione 4, per andare a compilare questo erario. Perché, tornando qui, io ho compilato le mie sezioni, la mia sezione 2, 1, 2 e 3. Ho una sezione 4, che è un dato di output, e questo dato di output mi calcola un indice di prestazione, mi dice anche se io sono efficiente o meno. In MacOffice, il tool lavora e cerca di individuare per quel codice Ateco, in base ai costi efficaci che noi abbiamo inserito per quel codice Ateco, quali sono gli interventi migliori. Per il tool, poi, a questo punto ci siamo domandati, ma se io ho già realizzato alcuni interventi all'interno, non sicuro il rischio che il tool restituisca qualcosa che io ho già fatto, e allora c'è un questionario che è sostanzialmente un questionario, potremmo dire, di sensitività, se chiamiamolo così, 70 domande in 19 schede, questo per esempio è un comparto industriale, ci sono domande random, ma sono domande ben calibrate per cercare di capire qual è il grado di efficientamento della realtà e per cercare di capire se tu hai già effettivamente fatto degli interventi, perché se tu hai già fatto degli interventi nel 2021 e nel 2022, ebbè, non ha senso che io ti proponga la stessa tipologia, né tu investirai mai nella stessa tipologia di intervento. Ora, questa è una schermata tra l'altro vecchia, ora non abbiamo più 21, 10, 20, 10, diciamo, anno N, dall'anno N-10 all'anno N-1 e prima dell'anno N-10, e insomma quello che si vuole far capire, ci sono anche domande di natura più qualitativa, hai un energy manager, sai che cos'è un sistema di gestione dell'energia, ti è mai capitato di avere a che fare con, cioè si cerca di capire un po' qualitativamente qual è la preparazione tecnica sostanzialmente nel compilatore. A quel punto, che succede? Scusami Marcella, ti chiedi un po' un attimo, perché Carlotta poneva due domande, una sull'inventario e l'altra su quanto stiamo dicendo. Rispetto appunto all'inventario, ci chiedeva Carlotta se il tool consente una precompilazione per evitare di inserire tutti gli anni i dati appunto nuovi e con possibilità di modifica, ovviamente. Cioè un caricamento massivo, stai dicendo? Credo che intendesse questo, però... No, intendevo che immagino che ogni anno uno debba comunque verificare, diciamo, il parco macchine, il parco di piantiche, no? Però per verificare ci sono stati fatti dei cambiamenti, però nel caso in cui invece la caldaia dell'anno N è la stessa della caldaia dell'anno N-1... Sì, è possibile. ...se il sistema me lo precarica. Sì, sì, è possibile sostanzialmente immaginare che vengano inseriti a video sempre le stesse voci, se è quello che si sta intendendo, quindi sì, è possibile. Però non me lo precarica, non me lo ripropone lui come copia dell'anno precedente e con possibilità di modificare, quindi togliere... No, non si ricarica tutto, no, 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 però se tu vuoi puoi confermare la struttura energetica anno per anno, diciamo che puoi fare anche un copia e incolla, nel senso... Essendo un Excel giusto non siamo su una piattaforma, ok? No, tu prendi... cioè se tu sai che non è cambiato nulla, gli dai l'ok, cioè gli dici guarda nell'anno N-2 era la stessa cosa l'anno N-1, però poi qua posso dire, cioè copia e incolla alla fine è abbastanza semplice, quindi... Quando invece nella piattaforma web, che stiamo già strutturando, stiamo facendo il progetto, poi vedremo quando realizzarlo, effettivamente l'idea è quella di fare proprio quello che tu dicevi, cioè lo carico e poi gli dico guarda lo stesso e me lo autocompilo, perché sennò diventa poi uno strazio dover scrivere a mano tutto e poi nessuno lo usa. E già che ci sei parlato a voi pure anche la giornata. Sì, dopo invece rispetto agli indicatori, visto che viene fatto il confronto con la media insomma dell'ateco di riferimento per quanto riguarda l'IPE, chiedevo rispetto invece all'indicatore della CO2 che viene riportato come totale annuo, non è possibile fare una verifica anche su quel dato lì, ovviamente non col dato totale in termini assoluti, ma anche qui rapportando l'emissione di CO2 ad una certa realtà rispetto a una grandezza che possa normalizzare e mi possa permettere di confrontare anche su quel parametro come sono posizionato rispetto alla media del mio settore. Allora, bella domanda. Diciamo che il tool vi dà questo valore, tenete conto che il meccanismo della CO2, tutto ciò che c'è in Italia è gestito da Ispra, ci sono degli indicatori ma sono di competenza Ispra e abbiamo pensato di chiedere a Ispra per la trasformazione di questo eseguibile in un tool se ci forniscono quei dati, però all'epoca non è stato possibile precaricarli e quindi fondamentalmente noi diamo un dato assoluto di CO2 e poi leghiamo questo dato assoluto alla potenzialità che tu puoi avere ex post, nel senso che se fai un intervento che può essere un fotovoltaico, ridurrai delle emissioni e allora avremo una nuova tabella di emissioni di CO2 e poi fai il confronto e hai una diminuzione. Però diciamo, siccome su GIP è nostra competenza e sulla CO2 no, abbiamo sviluppato tutto ciò che concerne su GIP, abbiamo caricato i dati, su un discorso di CO2 no, il tool non lo fa. Va bene, grazie. Al momento. Grazie mille. Vado avanti o c'è qualche altra domanda? C'era una domanda di Gianluca che chiedeva se il foglio di riepilogo è lo stesso, che si può scaricare separatamente rispetto a tutta... No, scusami, mi riferivo al foglio del questionario, Marcello a un certo punto esatto si era affermato qui al questionario, mi era venuto in mente che in apertura avevi parlato di un questionario che era... Si tratta dello stesso questionario? No, 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 non è, questo è un questionario che ti compare a pop-up sullo schermo e compili, selezioni, confermi e poi avanti, se tratta di domanda è molto semplice, ci vogliono 5 minuti per fare questo questionario e diciamo compili, confermi e alla fine i risultati di questo questionario, allora, tecnicamente che succede? Che ogni pulsantino, ogni risposta che tu dai, a ogni risposta viene data una media pesata, questa media pesata viene inserita una matrice multivettoriale che è dietro tutto questo lavoro, dove inseriamo la tipologia di impresa, il costo efficace dell'intervento, il codice Ateco e dal punto di vista dell'impresa che lo carica, che lo compila, qual è il grado di efficienza, è ovvio che se tu non c'hai nulla, no? Se tutto avanti 2010, vuol dire che non è proprio un massimo dell'efficienza e quindi il tool tenderà a darti, a proporti alcuni interventi magari più rispetto ad altri, insomma, poi dopo lo vediamo quando entriamo negli interventi. Non so se c'è qualche altra curiosità, se no vado avanti. Vado avanti? Ora mi sa di sì. Ok, va bene, allora siamo arrivati a questo, confermiamo il mio questionario, dove ci sono sia domande tecniche, sia domande meno tecniche, confermo, vado avanti, e il tool in automatico mi dà questa interfaccia grafica, cioè mi dice, mi dà una classifica di interventi, mi dice guarda, tu secondo me devi fare questo, e non solo ti dà la classifica, ma te li dà per vettore energetico. e sostanzialmente cosa siamo andati a fare? Così capite ora la prossima slide. Noi abbiamo preso a riferimento tutte le diagnosi energetiche arrivate negli anni precedenti. Abbiamo, grosso nuovamente ovviamente, strutturato 17 macro aree di intervento, perché a volte gli interventi erano tipo 15.000, quindi da 15.000 a 17 abbiamo cercato di trovarli. Abbiamo trovato queste 17 macro aree, all'interno di ogni macro aree abbiamo individuato gli interventi, abbiamo calcolato, abbiamo individuato ovviamente degli algoritmi che sono legati agli interventi, come calcolo il risparmio dell'intervento X, lì ci sono le norme, c'è la letteratura scientifica, vabbè non è importante questo, l'abbiamo fatto. Ovviamente capite bene che sono mediai, le tipologie di interventi, noi abbiamo caricato, precaricato su questo tool già 25 tipologie di interventi, cioè 25 sottocategorie di queste 17 macro categorie, in totale sono quasi 100 gli interventi delle 17 categorie e man mano stiamo caricando anche le altre. L'ultima release del 15.000 ne avevo calcolata qualcuna in più, quindi sono più di 25, ma sostanzialmente sono le più importanti, no? Conti rinnovabili, interventi su impianti elettrici, sull'involucro edilizio, sulla climatizzazione, l'illuminazione, l'aria compressa, scusate, interventi di natura gestionale o generale, insomma quelli più importanti ne abbiamo precaricati. E quindi qui possiamo caricare lo storico degli interventi, no? Perché nel questionario ti viene chiesto anche se hai fatto gli interventi e quali, ma qui hai la classifica degli interventi che devi fare. A questo punto nelle varie aree che voi vedete a video, voi potete selezionare ogni singolo intervento e avrete una tabella del genere, ora dopo la vedremo meglio nello specifico, ma per ogni intervento, questo è per farvi capire che cosa fa, il tool mi dà una scheda di input output, cioè che cosa vuol dire? Mi dice il mio risparmio, come l'ho calcolato, esiste una normativa tecnica e qui viene riportata la normativa tecnica rispetto alla quale il tool va a fare il calcolo. Può essere una formula trovata in un libro scientifico, in un articolo, possono essere le schede standard dei certificati bianchi, può essere una scheda del conto termico, può essere una scheda delle interazioni fiscali, insomma ti dà il riferimento normativo. E a questo punto mi calcola, dopo lo vedremo nella specifica ogni area, sia ben chiaro, ma questo era per darvi la panoramica, mi calcola i risparmi e lo fa per il numero di anni che io ho deciso di vedere. 20 anni mi fa il calcolo dei 20 anni, 10 anni mi fa il calcolo dei 10 anni. In automatico mi fa anche un calcolo economico di un potenziale investimento che io posso andare a effettuare per ridurre i costi energetici e mi calcola il VAN, cioè il valore attuale netto. Non so se tutti sappiamo che cos'è il valore attuale netto, brevissimamente, per chi non lo dovessi sapere, io vado a splittare nell'anno ennesimo zero quello che è il mio costo del denaro in 20 anni, mi faccio i miei flussi di cassa nei 20 anni e poi lo riparametro oggi, visto che insomma il mio intervento è positivo se il VAN è positivo. Quindi se il VAN è negativo, vuol dire che l'intervento negli n anni che io ho deciso di analizzare, 10-20, 18-20, se il VAN è negativo, vuol dire che il flusso di cassa è negativo, quindi non vale la pena. Se 0 vuol dire che è indifferente, se è positivo e in quale quantità è positivo, mi dà un po' la significatività di quanto il VAN, di quanto l'intervento sia approfittevole o meno da un punto di vista energetico. E che cosa va a calcolare il mio... che cosa mi dice di ogni intervento? Mi va a fare questa analisi. Mi va a dire... come vedete al video abbiamo degli output e degli input. Allora io mi dice fai un impianto fotovoltaico. L'impianto fotovoltaico è questo, mi dà, io immagino, una potenza dell'impianto fotovoltaico, 10 km, e immagino che ogni km costi 3.000 euro e sono i due dati che io devo andare a inserire. A questo punto si fa il calcolo su queste schede tecniche, mi calcola i risparmi, mi fa la mia curva e tutto ciò che concerne e in i miei dati di input sono questi, quindi investimento, eventuale finanziamento a fondo perduto, se sto partecipando a un BAN, tasso di attualizzazione, questo lo mette l'impresa, mi costa meno dell'energia o del combustibile che io pago da bolletta. In output ho tutto questo, ho i consumi di energia ex ante, ho i consumi di energia ex post, il risparmio di energia in kWh, il risparmio di energia in megajoule, ho le emissioni di CO2 evitate, e quando poi andremo a fare il riepilogo, tutte le emissioni di CO2 evitate, di tutti gli interventi individuati, verranno fumulate e verranno confrontate con quella che era la tabella che abbiamo visto prima nell'inventario, nella sezione inventari. Mi dice poi anche le emissioni di CO2 evitate, mi dice l'investimento netto, mi parla del risparmio economico, mi dice il risparmio rispetto all'investimento, mi dice il mio BAN calcolato sui 20 anni, il mio payback period, il mio tempo di ritorno semplice dell'investimento, e infine mi dice il tasso interno di rendimento dell'investimento, che è anche un valore utile perché ti permette di confrontare i vari interventi, perché è vero che il tool ti dà n interventi, di solito se ne propone 5, ma per ogni intervento il tool ti calcola il BAN, ma in realtà se dobbiamo dirlo proprio tutto, anche il BAN stesso non è proprio il parametro discriminante, perché se avessi un intervento per esempio, due interventi che hanno lo stesso BAN, che ne sono, infatti il fotovoltaico mi dà un BAN di 700.000€, però c'è anche un involucro in un edilizio che mi dà un BAN uguale, non capita raro, però 700.000€, beh, se io devo farne solo uno, quale faccio? Mi faccio ste analisi, calcoli i miei casi interni di rendimento, ma potrei anche decidere di, scusatemi, a parità di BAN di realizzare quello che comporta un investimento netto minore, banalmente, dicendo scusate, se io ho questo BAN, quindi ho un valore attuale netto a 20 anni di 700.000€ e lo posso ottenere con un investimento di 50 e l'altro è 150, beh, allora faccio cura di 50, visto che l'output è lo stesso in termini energetici ed ambientali, quindi insomma ci sono vari output che in automatica vengono, appaiono in queste schermate. Qui, per esempio, è la tabella specifica calcolo dei risparmi, ovvero questa, dell'installazione di motori elettrici, dove sostanzialmente il tour mi dice quali sono i motori e qual è il consumo che io potrei andare a risparmiare. bene, questa parte qui, fatto tutto questo io vado a provare le varie voci, nel senso torno indietro, seleziono un intervento, inserisco i dati, succede tutto questo, a un certo punto io valido gli interventi. Come lo valido gli interventi? Così ho un mio affare, questa tabellina e mi dice tutti i dati principali dell'intervento di efficientamento, cioè risparmi in energetica, risparmi primario in TEP e in primaria, scusatevi, mi dice quali sono i parametri ambientali, quindi qual è la mia riduzione di C2 e mi dice qual è il mio investimento, il mio risparmi, il mio vanno, eccetera, eccetera. Mi sta bene? Io clicco su un valido intervento e passo in automatico, scusatevi, alla seconda, alla seconda intervento, quindi lo seleziono nel mello a tendina, ovviamente sono esempi, dipende dove lo faccio, fino a massimo di 15. E li valido tutti, valido, 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 e nel momento in cui li valido ho ovviamente un panel, cioè il mio tool li sta introditando, si sta calcolando tutti i WAN e li sta mettendo diciamo in memoria, in un buffer, perché poi dopo li utilizzerà. Fatto, validato l'intervento, sostanzialmente ho finito la parte degli interventi. Al momento, da un punto di vista industriale, per esempio, ne abbiamo tutta una serie di interventi che vedete a video, abbiamo l'installazione di motori elettrici, l'installazione di compressori, inverte, ripasamento, gruppo di continuità, l'illuminazione, sostituzione, c'è il frigo, l'illuminazione, il fotovoltaico, i refrigeratori, abbiamo il solare termico, il biometano, tutto ciò che concerne la decarbonizzazione della parte, diciamo, dei trasporti, abbiamo gli isolamenti e gli involucri delizi, abbiamo gli interventi elettrici in generale, abbiamo aggiunto qualche altra categoria di recente, quindi ce ne sono altre in realtà, e questo per dirvi quanti fogli ci sono, ovviamente voi non li vedete, voi vedete solamente questo, però ogni foglio sostanzialmente fa questo, è precompilato con una macro per analizzare i vari aspetti. Qui per esempio abbiamo un esempio sull'installazione di motori, diciamo un caso pratico, io ho investito 50.000 euro, non ho finanziamenti a fondo partito, è un tasso del 3%, ovviamente in automatico si compila tutto, e l'output che ho è il calcolo dell'energia primaria, le emissioni di CO2 evitate, e gli output economici, guardate qui, mettendo questi tre valori, questi quattro valori, scusatevi, mi dà in output l'investimento, il costo di energia, lo sapevo già, il risparmio energetico, le tonnellate di CO2 evitate, il risparmio in termini economici, il payback period, tempo di torno semplice, e il VAN, con questa compilazione. Qui per esempio abbiamo un esempio di motori elettrici, dove uno sostanzialmente, se vuole, può anche sbizzarrirsi, anche a compilare in automatico tutte le varie voci, ma quello che è importante è farvi capire, che nel momento in cui voi mettete, questa è la scheda del motore elettrico, per esempio, questa è la scheda del motore elettrico, voi mettete i dati e in automatico vi calcola tutti i risparmi, il VAN, i consumi, eccetera, eccetera. Questo per esempio del fotovoltaico è molto simile, non so se si vede bene, comunque qua sincerisce essenzialmente la potenza dell'impianto fotovoltaico, se se lo vuole fare stand alone o connesso alla rete, qual è il costo del kilowattora, il costo di installazione del kilowattora e qual è il mio costo energetico. In automatico, questa è una cosa interessante, il tool mi calcola le stesse identiche cose, ma mi fa anche una panoramica di quando il mio intervento sarà utile, ovviamente di notte o nei periodi invernali ci saranno un minore impatto, quindi i risparmi saranno inferiori e i risparmi sono maggiori, ovviamente nei mesi cauti o quando l'insolazione è forte. C'è proprio una grafica, la vedete qui? Una grafica a consumo dove c'è una leggenda, quindi sono, insomma, questi sono momenti in cui l'impianto fotovoltaico produce tanto e dà una grande mano e man mano, come potete immaginare, ci sono gli altri aspetti, cioè quando l'impianto fotovoltaico magari collabora ma non, diciamo, a un livello eccessivo, mettiamola così. L'impianto fotovoltaico è la stessa cosa, qui vedete potenza installata, autoconsumo, i miei costi d'energia e mi calcola le stesse identiche cose, con anche la producibilità e il mio bel ban. E a questo punto che succede? Io ho confermato, confermato, confermato all'ultimo intervento, mi compare un pop-up e mi dice confermi tutti gli interventi, eccolo qua, questo è il epilogo finale, lo vedete qui, e di tutti gli interventi, se io do l'ok a questo pop-up, cioè dico sì, mettiti, ti do l'ok, in automatico lui mi riguarda questa e l'epilogo finale degli interventi che tu potresti effettuare. E a questo punto dice, ma vuoi generare il report? È necessario essere online, generare il report, io clicco su generare il report, e in automatico il tool si collega al server Enea che abbiamo qui, e il server Enea mette insieme tutti i pezzi, tutte le macro, c'è tutto un lavoro ovviamente, che non so qui a raccontarvi, e genera un documento, un doc, scusatevi, e non ce l'ha applicato, dopo me la leggero, c'è anche la slide, come con, non so perché non ci sia, proprio con il report, cioè, è un vero e proprio diagnosi, e si parte da, sostanzialmente, c'è la prima pagina relativa all'energia, la seconda più di una, e ripercorre gli acquisti, l'energia, quindi quali sono i costi delle bollette, sono i grafici, i diagrammi a torta, le analisi, ovviamente è un doc, quindi se tu puoi approfondire, modificare, compilare, inserire altre tabelle, è uno strumento che è editabile, e ovviamente è fatto per essere appunto adoperato, e per sostanzialmente adoperarla in un'ottica di proattività, ecco. Contessualmente, interrompo volutamente, per lasciarci prendere un attimo fiato, ti faccio un paio di domande, ti lasciamo bere un attimo, ci sono due domande che riguardano proprio gli interventi, le interazioni tra i vari interventi scelti, una la poneva Carlo Atta, non so se in realtà ti ha già risposto, senti che ti ha già risposto Marcello, oppure no? No, io non ho trovato la risposta, ma magari sono io che sono distratta su quel punto lì, chiedevo rispetto agli interventi che il sistema propone, che per ogni vettore energetico sono cinque, no? Sì. E se tiene conto di quella che è la fotografia dei dati che l'azienda ha inserito e del questionario quali quantitativo rispetto agli interventi già fatti, quindi presi quelli che restano e sono applicabili, non ho capito come seleziona i cinque tra gli n possibili, va a fare comunque già in automatico una valutazione dei parametri economici o di risparmio? Sì, hai ragione, forse non l'ho approfondito. Allora, c'è una matrice, dietro di tutto questo, c'è una matrice multivariabile. La matrice multivariabile tiene conto di n aspetti, tiene conto del grado di efficientamento dell'azienda e ce l'hai col questionario e con gli eventuali interventi effettuati. Poi tiene conto dei dati energetici che tu hai messo. È ovvio che se io consumo il 90% sull'illuminazione e niente sugli altri, inevitabilmente il mio intervento sarà sull'illuminazione, ma soprattutto tiene conto di un costo efficace, cioè non tutti gli interventi sono uguali per tutti i codici ad eco. Se ho una lavanderia industriale, un fruttivendolo, un panificio o un'azienda che fa stampaggio o fa le bottiglie di pasta, non è la stessa cosa fare un impianto fotovoltaico, né è la stessa cosa proporre ad esempio di fare un rifasamento o di migliorare l'ibocolo edilizio. E allora che cosa abbiamo fatto? Nel tanto in una serie di pubblicazioni scientifiche innumenevoli, siamo andati con i colleghi a trovare i costi efficacia delle varie tipologie di intervento per codice ad eco. E tutti questi dati siamo andati a inserirli in questa matrice, cioè la matrice fa una sorta di moltiplicazione, tanto diamo un valore, ogni aspetto che vi ho raccontato ha un valore da 0 a 1, ovviamente, un codice binario, ed ha un peso. Allora, il costo efficacia ha un peso 0,3. Ma non solo ha un peso 0,3, ma il costo efficacia viene calibrato per il codice ad eco, per ogni singolo codice ad eco. Quindi, per esempio, se le analisi che abbiamo svolto come NEA hanno dimostrato che il rifasamento nei negozi di barbiere, sto facendo un paradosso però per farvi capire, o un fruttivendolo è inutile, noi avremo un valore in questa sommatoria di volumi, di parametri, avrà un valore di 0,05, quindi difficilmente la classifica ti darà il rifasamento. Cioè noi abbiamo matchato i dati che dà l'impresa con i dati che in back office abbiamo calcolato per ogni singolo codice ad eco, per ogni intervento. Non so se sono stato chiaro. Chiarissimo, grazie. Quindi, in questa c'è una matrice che è enorme dietro, che fa tutte queste moltiplicazioni, e poi dice, oh, questa matrice ti dà 5 valori. A ogni valore, ovviamente, noi facciamo corrispondere una categoria, e quindi quella classifica che tu hai è la classifica, secondo il tool migliore, in questo tempo t con 0, dopo quello che tu hai fatto, rispetto al singolo codice merceologico. Poi certo, se tu cambi e fai altre cose, magari domani sarà un'altra cosa, però il concetto è questo, insomma. E quando io vi dicevo all'inizio che noi vorremmo rendere dinamico tutto il tool, mi riferivo a questo, perché noi abbiamo precompilato questi valori di costo efficace, li abbiamo scelti, individuati e caricati, ma sono sempre quelli. Se invece noi avessimo la possibilità di calcolare i costi efficaci, partendo dai dati reali delle imprese che fanno la diagnosi e che usano il tool, vedreste che magari andremo a work in progress, no, andremo a modulare il costo efficace, quindi probabilmente questa classifica potrebbe variare nel corso del tempo. Scusate, mi inserisco allora perché forse l'ultima domanda che ho messo ha già risposto, nel senso che chiedevo se nella fase in cui invece si è finito di compilare il tutto e validati gli interventi, si collega per produrre il report di diagnosi che quindi si va online, la mia domanda era se in quel momento venivano riversati sulle vostre banche dati, tutti i dati che la PMI ha inserito offline e quindi quei dati vanno ad alimentare la banca dati che consente appunto di ampliare, di tenere aggiornate le informazioni per i benchmark, invece, no, c'è una nota dolente questa, mi dovevo dirlo perché ci sono problemi di privacy. Allora, il tool all'inizio nella nostra immaginazione era quello che stiamo dicendo, l'abbiamo scoperto che non si può fare perché bisognerebbe mettere su tutta una questione sulla privacy che non si può fare su un file Excel ma si può fare su un portale web e quindi quando migrieremo sul portale web, la prima cosa che faremo sarà chiedere l'autorizzazione all'utilizzo dei dati di tutti coloro che adoperano il tool, ci sono il GDPR, questo parla chiaro, è una dolente nota, però rispettiamo ovviamente l'enorme, è scontato. Non so se c'è qualche altra domanda, altrimenti vado avanti. Te ne faccio un'altra, di Luca che dice se e come rispetto sempre agli interventi scelti vengono valutate le interazioni tra essi che potrebbero andare ad abbassare i benefici complessivi, quindi se c'è anche una valutazione delle sinergie. Quindi diciamo che non è una interconnessione molto approfondita, non è che andiamo a fare per esempio un calcolo di sovrapposizione degli effetti, no, qui non ho, sono molto franco. Quello che però è in dubbio è che per ogni vettore energetico, se io per esempio scelgo, di rifare gli impianti elettrici, di sostituire dei motori, tiene conto, facciamo un esempio pratico, mettono energetico, energia elettrica, devo ridurre i consumi, ho motorie due, io e tre, oppure ho i neon, ho le lampade di incandescenza nel mio ristorantino. Che fai tu? La prima cosa dice di cambiare l'illuminazione, però nel momento in cui cambia l'illuminazione in automatico i consumi crollano drasticamente, quindi il costo efficace dell'intervento che può essere per esempio installo un fotovoltaio, cambia. Allora, l'interconnessione, cioè in termini di sovrapposizione degli effetti, in termini di consumi, non la fa questa analisi, però tiene conto di questo aspetto, cioè se io ho abbattuto di molto, perché ho messo motori IE5, IE6, al posto dei motori IE2, a parte il giallo delle due amiche, ma non lasciamo stare, oppure siamo messi LED e c'avevano ancora le lampade, perché sulla trattoria in Toscana o in Puglia, non lo so, in Campania che aveva ancora, sai, in turno in automatico calcola queste cose e quindi dice qual è il fabbisogno? E' diverso il fabbisogno, il militaro il fabbisogno, a quel punto per quel fabbisogno e per i prenievi che io posso fare c'è bisogno del fotovoltaico e quindi il Tull ti dice questo. Però dal punto di vista energetico, diciamo, la sovrapposizione degli effetti non la fa. Spero di essere stato chiaro. E non so se vuole intervenire Luca, se ha possibilità, se ha chiarito Marcello con la sua risposta. Sì, direi che è chiarito nel senso che nella classifica interviene l'interazione, però poi dopo se il fotovoltaico comunque è una di quelle cose che mettiamo nella diagnosi, il consumo di base su cui calcolare autoconsumo eccetera è sbagliato. E' relativo allo status quo, quindi l'intervento in sé è relativo allo status quo al tempo tico con zero, cioè quando sto adoperando il Tull ovviamente, quindi a sé istante. Però ovviamente tiene conto del posizionamento, dell'intervento di questo aspetto qua. Dello stesso può valere sugli isolamenti, le pompe di calore? Bravissimo, bravissimo. Perché comunque sono interconnessi. Ah certo. Noi vorremmo che si facessero tutti, probabilmente se ne farà uno, massimo due, però è anche bene tener conto di questo aspetto. Allora ti faccio una domanda più generale che ha posto Patrizia, rispetto proprio alla compatibilità, quindi molto più generale rispetto alla compatibilità di questo tool e dei fogli con i sistemi Windows, Linux, ma lei poneva il problema del sistema iOS che credo sia legato a Apple, se c'è qualche problema. No, 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 stanno adoperando anche in iOS, assolutamente. Poi vedremo nell'ultima slide, noi però nel manuale di istruzione, nella penultima pagina c'è un link, che è un survey, aperto praticamente a H24, anche se noi non ci siamo a H24, ma per essere anche di notte, dove tutti possono segnalare in tempo reale malfunzionamenti, anche dare indicazioni, e noi siamo, dico la verità, stiamo avendo un grande giovamento da questi feedback, a parte ci stanno dando anche delle indicazioni sinceramente interessanti, ma perché ci permettono di calcolare gli error. Può capitare che una versione di questo Excel non giri completamente o abbia, spesso capitano dei run error come su Windows, in alcune particolari macchine, per alcune tipologie di Windows o sistemi operativi. In quel caso viene segnalato e noi nel giro di una settimana cerchiamo di aggiornare il tool, risolvere il problema e ricaricarlo sul portale. Quindi in realtà poi quello che vedete, le release, che sono state quattro fino a ora, sono legate a degli aggiornamenti proprio sul tool, sugli aspetti pratici, gli aspetti informatici, a parte che vedete tutte le caratteristiche nel manuale di istruzione, quindi sono cento e passapagine per farvi un'idea. Ci sono tutte le quesite minimi. Ma poi se c'è qualche problema ce lo segnalate e noi nel giro di una settimana ricarichiamo e poi contattiamo chi ci ha segnalato ovviamente, dicendo guarda è disponibile la nuova versione scarica, facci sapere se funziona. Però fino a ora iOS non ha mai dato problemi. Mi ho avuto un problema qualche volta con Linux e con qualche vecchia versione di Windows, però diciamo troverete tutte le specifiche sul manuale di istruzione, quindi vedete subito se la vostra versione è effettivamente adoperabile o meno. Grazie mille, anche di tutto il lavoro che sta dietro questa presentazione. Ti assicuro che è impegnativo, è un lavoro impegnativo. Allora, tornando a noi, abbiamo detto che è possibile stampare il report della diagnosi. Tornando alla domanda di prima un tempo, qua c'era il cassino in via d'Atene, era proprio la panacea, però è scomparso. Dicevo che però c'è anche una parte relativa alle acque e qui poi ci apriremo dopo al perché c'è questa cosa. Abbiamo sostanzialmente realizzato un inventario relativo ai prenevi idrici. Ora questa fase qua, detto da tra di noi, in questo momento è in manutenzione, quindi in realtà non è disponibile già, però come vedete ci stiamo lavorando con le associazioni di categoria, perché abbiamo individuato due o tre tipologie di approcci. Un approccio legato al ricircolo, un approccio legato al recupero, un approccio legato all'adduzione. Quindi se prendiamo un acquedotto pozzo se lo ricircolo o se appunto lo vado a riciclare. E qui vedete insomma sostanzialmente che quello che chiederemo ai compilatori sarà una cosa molto semplice. I mesi, cioè i dati di bolletta, stiamo chiedendo questo, e poi probabilmente chiederemo se l'acqua, no probabilmente, chiederemo se l'acqua è d'acquedotto o da pozzo e qualora sia da pozzo, se ci sono gruppi di pompaggio, gruppi di rilancio e la potenza e le ore di funzionamento. Perché da questi dati noi andremo a fare una sorta di screening dei consumi idrici e in collaborazione con la associazione di categoria della Fattispecie stiamo facendo questo lavoro per la farmaceutica, per le fonderie, per la metallurgia, lo faremo per la plastica brevissimo e l'abbiamo fatto, e per il test e l'abbiamo fatto anche per l'alimentare, cercheremo di trovare dei benchmark. Questo lo faremo e quindi cercheremo anche di far capire alle imprese se il consumo d'acqua è, diciamo, utile rispetto, scusatemi, utile, è inferiore, in media o superiore a quello che è il consumo medio. Voto per pieno è perché non c'è molto in letteratura, va detto, c'è quasi niente sulle acque, di quel codice merceologico. Ma dove sarà possibile? Ma dove non sarà possibile? Faremo sostanzialmente un feedback, dirà, consumi x mila metri cubi di acqua e il consumo energetico correlato alla trattazione di quest'acqua è x kilowattro. Quindi, insomma, cercheremo di essere pratici. E come vi dicevo prima, da Audit 102 è possibile scaricare sia il manuale d'uso, dove c'è tutta l'informazione di cui vi dicevo, sia il manuale di installazione rapida, che contiene anche i vari suggerimenti sul funzionamento del tool. E nella penultima pagina di questo, del manuale d'uso, troverete anche questo link, che è un link legato, ovviamente, a quello che dicevo prima. Se uno ha malfunzionamenti del tool, può segnalarli e noi, disponibilmente con tutte le attività, però, insomma, rispondiamo sempre. Ci sono dei colleghi che hanno questo, questo, diciamo, questa tra le loro attività, cioè seguire in back office anche, diciamo, la manutenzione del tool. Poi, man mano, probabilmente, quando il tool verrà sempre di più adoperato, potremo anche, potremo anche redigere delle facche, renderle disponibili, ma finora, per fortuna, non ci sono stati grandi problemi. Vi lascerei con questo che è il discorso della direttiva, la nuova direttiva 1791, no, 1971, 1791-2023, che dice che a partire dal primo giorno 24, quindi già in vigore, anche se non è recepita a livello nazionale, tutte le imprese che consumano più di 85 terajoule dovranno, nel triennio precedente, all'anno ennesimo, quindi all'anno 2024, quindi 21, 22, 23, dovranno adottare obbligatoriamente sistemi di gestione ISO 50.000 e se hanno un maggior consumo più di 10, se hanno un consumo maggiore di 10 terajoule dovranno adottare, dovranno redigire la diagnosi energetica e poi inviarla Enea, eccetera, eccetera. Noi parteciperemo ovviamente al recepimento, con la scadenza quadriennale, la vedete sotto, cambierà poco da un punto di vista meramente pratico. E però quello che mi prevede dire è che se andiamo a fare un'analisi di sensitività vediamo che abbiamo un grande numero di PMI che saranno obbligate a partecipare all'obbligo. 10 terajoule all'incirca sono 250-270 teppa, poi fatevi le vostre conversioni ma vi fa capire subito se siete dentro o fuori dall'obbligo oppure probabilmente prendete i dati di bolletta, fate le conversioni in megajoule e i convertitori sono disponibili anche online. E questo vuol dire che quindi una cosa su cui noi abbiamo molto, molto, molto stressato, imprese, categorie di imprese e anche i vari partner con cui abbiamo fatto delle 12 tappe e quest'anno nel 24 faremo altre setup, quindi andremo ancora in giro per l'Italia, sono in fase di organizzazione, beh vuol dire che bisogna muoversi perché su queste cose vi dico non si scherza, noi come Enea aiutiamo il MASE anche nella fase di sanzione, noi già il primo gennaio, anzi il 3 gennaio, siamo partiti con i controlli della scadenza 23 e già stiamo segnalando i gennaio di impianti. Sarà la stessa cosa per tutti i soggetti che saranno obbligati a fare le diagnosi e quindi sostanzialmente già iniziare a fare entrare, non tutti lo faranno, è sia ben chiaro, però potrà capitare che magari le imprese un po' più energivore saranno, le PMI un po' più energivore saranno obbligate a farla e quindi è bene iniziare a entrare in quest'ottica, l'obbligo non entrerà in vigore in Italia, almeno secondo me, prima del primo gennaio 26 e questo per essere chiaro, quindi c'è anche un po' di tempo, però è importante entrare in ottica e poi sempre la direttiva ci dice che le nuove diagnosi dovranno contenere informazioni sul volume di acqua consumata e confronti con i consumi di acqua energia con gli anni precedenti. Quindi in realtà, senza neanche saperlo, abbiamo buttato giù, noi questo turno l'abbiamo progettato in pandemia nel 20 e realizzato qua nel 21 e nel 22, ma manco a farla apposta, avevamo già immaginato questo, e le prossime diagnosi dovranno obbligatoriamente contenere anche questa informazione e quindi ulteriormente sensibilizzare le PMI su questa tematica ci è sembrata una cosa utile. Io tendenzialmente avrei terminato la presentazione. Se ci sono altre domande, con i siti, sono qua a disposizione. A voi? Ah, scusami, questi sono i link. Enea.it, inizio dell'Enea, efficienzaenergetica.it, trovate tutti quei linee guida, tool che vi avevo fatto vedere. A8102 è l'inizio del portale, quello là che vi ho fatto vedere all'inizio. E poi abbiamo anche un canale real-time con le imprese che è Diagnosi Energetica.it, qui rispondiamo tutti i giorni a tutti quei siti inerenti, il mondo della diagnosi energetica, che sia un mondo legato all'obbligo o che sia non legato all'obbligo. Ovviamente, informazioni di natura pratica, non consulenze. Questo per essere chiaro, perché qualche volta qualcuno scrive con la consulenza. Però, confronti, consigli, curiosità, insomma, mandiamo tutte le indicazioni alle imprese. Tanto salutiamo chi si deve scollegare fin da ora. Va bene, grazie. Grazie a Marcello. No, grazie a voi. Ovviamente gireremo questi link per mail e se ci dai l'accordo di diffondere le slide, le carichiamo insieme alla registrazione del webinar. No, assolutamente. E una ultima domanda, non so se ce ne sono altre in chat, era da parte di Andrea, che si chiedeva se il report che poi si scarica è conforme alla norma UNICE-IN. Allora, allora, no, questa è un'autovalutazione, una diagnosi, non è una diagnosi per ottemperare un decreto, semplicemente per il fatto che Enea non può entrare nel mercato dei professionisti. Ovviamente, la diagnosi, come vi ho detto, deve essere datta da un agent certificato che firma, si prende la responsabilità civile e penale, tutto ciò che sappiamo. Se poi vuole essere adoperato come un canovaccio per fare la diagnosi, ben venga, ma in realtà come vi ho fatto, no, non ve l'ho fatto vedere, ma sul sito efficienzanergetico.neo.it nella sezione per le imprese, noi da anni abbiamo caricato un template di una diagnosi legge, conforme al 102. Quindi più di questo, ovviamente, non possiamo fare. Grazie mille. C'è qualcun altro, Umberto, che ci chiede se, a livello di gestione dei cicli di informazione dello sportello, se sarà possibile ottenere un'attestata di partecipazione. Magari colgo l'occasione per ritirare in causa Daniele, possiamo prevedere qualcosa del genere, possiamo fare qualcosa di... Una domanda che è arrivata anche via mail negli scorsi giorni, non è previsto l'attestato di partecipazione. No, non abbiamo previsto. Per ora, esatto, cogliamo però che c'è interesse, magari c'è un'esigenza a riguardo, ci può essere un interesse a riguardo, quindi facciamo tesoro anche di questa domanda. e non so se ce ne sono altre, altri punti da riaprire o curiosità. Andrea ci dice che ha ritenuto utile questo strumento e lo ritiene importante. Grazie. Noi speriamo che voi lo scarichiate e che ci diate feedback, vi divertiate a usarlo, però, insomma, lo usiate così magari noi possiamo ulteriormente migliorarlo. Il senso è quello. Non so se, Marcello, vuoi dire più o meno quando sarà pronto il web o l'app, un'idea di tempistiche, una domandone, immagino. Ma anche perché non dipende mica solo da noi. ci sono progetti, ci sono finanziamenti, non è... L'idea c'è, ci stiamo lavorando, se ce lo finanziano lo facciamo anche alle centenze, diciamo, venticinque, se no vediamo. Qua non è... Però, ci sta. Sicuramente entro fine anno, questo me lo posso dire per certo, perché lo faremo in un progetto già finanziato. Metteremo su un portale web dedicato alle PMI sull'efficienza energetica, con anche una parte di alcune parti, scusate, che avete visto. Per tutto il tool, vediamo, vediamo, vediamo. Io spero per il 25, sono ottimista. Bene, bene. Poi immagino possa essere importante anche l'intelligenza artificiale per adattarsi sempre di più all'esigenza delle imprese. Comunque... Fino a ora c'è intelligenza. Nel senso, se no, ci stiamo lavorando noi a una software house. Ora, alcune cose vorremmo un attimino renderle più automatiche. Per esempio, potrebbe essere interessante nell'interfaccia iniziale quando tu dici dove stai, la regione, far partire tutta una serie di dati regionali e lì probabilmente... Ecco, l'intelligenza potrebbe darci una grande mano, no? Andando a prendere varie cose. Vedremo, vedremo, vedremo. In progress, mettiamola così. Bene, mi collega a questo. Anche per ringraziare tutti e per ribadire il fatto che lo sportello green per le imprese è all'interno di un gruppo di servizi che comprende anche l'innovazione sulla transizione digitale. Per fare un esempio, abbiamo vinto come Comune di Bologna in un grosso progetto che si chiama Casa delle Tecnologie Emergenti che stiamo sviluppando, che finirà alla fine del 2024 e speriamo che vada ancora avanti ed è un progetto che aiuta l'impresa ad applicare quelle che sono le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, l'Internet of Things, il Blockchain e via dicendo. Quindi no, questo per dire che se diffondete questo fatto che esiste lo sportello green per le imprese all'interno di Bologna Innovation Square ci possono essere tante opportunità su tantissime sfaccettature dell'innovazione di tecnologie per le imprese. Con questo non so, a saluto anche Mariano Tarantino visto che si è collegato da poco. Buonasera a tutti, scusate, ho avuto un imprevisto. Comunque ci vedremo anche nei prossimi appuntamenti. Ringrazio a tutti, ringrazio Marcello, ringrazio la consulenza tecnica di AES, e ne ha tutta per quello che stiamo facendo. Mi sembra che ci sono state tante domande, tante interazioni. Come ha detto Sara, avremo la registrazione del webinar e le slide. Ora ve ne invio le slide, mi invio per i meno. Grazie, grazie Marcello, sia il link che ha messo nella chat. Ci risentiamo per il prossimo appuntamento che è il 16 di febbraio. e se qualche azienda fosse interessata già al laboratorio per mettere in pratica il tool di Enea, ce lo può comunicare tramite email. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie per le domande. Grazie a tutti. Grazie a tutti.